Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera. Abbiamo organizzato questo evento per parlare della crisi economica, delle vere cause di questa crisi economica. Allora la prima cosa, alla fine della relazione potrete fare delle domande, dovete fare delle domande se naturalmente lo volete fare. Abbiamo pensato di fare in questo modo, qui alla vostra sinistra avremo un microfono e chi vuole venire a fare la domanda appunto la faremo da questa posizione. Vi chiedo la cortesia magari di fare domande brevi e pertinenti proprio all'argomento di questa sera, che sia naturalmente l'economia, la macroeconomia, la crisi economica. La seconda cosa, volevo precisare che dietro a questo evento non ci sono partiti politici, movimenti e volevo appunto precisare questa cosa. Bene, siamo pronti. Faccio la presentazione. Giornalista d'inchiesta, scrittore, saggista, cofondatore della trasmissione televisiva Report, ha scritto per le più importanti testate giornalistiche, quali la stampa, il manifesto e il Corriere della Sera della Repubblica. Lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Signori e signori, Paolo Barnard. Buonasera, il punto qua è oltre a capire che cosa sta succedendo ai nostri redditi, ai nostri capannoni, al nostro portafoglio ordini, al nostro negozio, eccetera, ai risparmi, alle possibilità dei nostri figli o dei nipoti di vivere in un paese che crei lavoro, eccetera. Al di là di questo, della comprensione di cosa sta veramente succedendo, che è importante, perché nessun giornale, né televisione ovviamente vi offrirà un'informazione reale di quello che sta succedendo, non possono, perché dipendono in tutto e per tutto dai signori che guidano l'economia, per cui non possono perdere il posto di lavoro raccontando la verità. Allora, al di là di questo però, c'è il fatto di cosa fare dopo, perché io giro l'Italia a fare conferenze da molto prima della crisi economica, su tutte le inchieste che facevo c'era sempre il solito round, l'inchiesta andava in televisione, dopo c'erano i tre mesi di conferenze. Insomma, sono degli anni che faccio queste cose e ho anche fatto delle cose di un certo rilievo, perché se pensate a Rimini nel febbraio di quest'anno, quando abbiamo raccolto 2180 persone paganti per ascoltare questi temi, è stata la più grande conferenza di economia della storia d'Italia, forse una delle più grandi mai fatte al mondo. Ecco, quelle 2180 persone dove sono finite, perché acquisisci il sapere, molti mi scrivono dopo, dicono io non immaginavo che cosa stava succedendo, lei mi ha aperto gli occhi, adesso uno che mi ha scritto di recente ed è pubblicamente apparsa questa cosa è l'attore italiano, Riccardo Scamarcio, che è un divo delle ragazze, il quale in un'intervista su Io, donna del Corriere della Sera, aveva detto io leggo Paolo Barnard, è importantissimo, eccetera. E lui mi ha chiamato e mi ha detto, ah tu mi hai aperto gli occhi, io prima di leggere te non avevo mai capito cosa stava succedendo nel mondo della politica e dell'economia. grazie a Riccardo Scamarcio, un attore famoso, ma chissà quanti ci sono come lui, che mi leggono e hanno capito, quante sono venute alle conferenze, hanno capito e poi, ecco, il punto è poi. Il discorso è cosa fare con tutto quello che apprenderete questa sera. sto partendo dalla fine del discorso, perché è la cosa che mi premi di più, perché dal mio punto di vista, lo capirete anche dal punto di vista umano, se qualcuno si mette nei miei panni, stare qua sopra non è che a me interessi più di tanto, sinceramente, non è che il fatto di essere chiamato in televisione una volta o due mi interessi più di tanto, a me interesserebbe riuscire a fare qualcosa, più che ad avere l'applauso. E allora parto proprio da questo punto. Che cosa facciamo noi cittadini che viviamo sulla nostra pelle questa cosa orrenda che sta succedendo, poi dopo una volta che abbiamo acquisito gli strumenti per capire e per fare delle richieste alla politica, al mondo della politica. Cosa facciamo? Allora io vorrei che questo pensiero, che cosa farò io questa sera dopo che esco da qua, rimanesse con voi almeno lungo tutta l'esposizione, perché magari alla fine se questo tarlino, questo tarlo vi ha lavorato dentro la testa, magari alla fine facciamo uscire da qua, non dico tutti, ma qualcuno con un'idea precisa di come agire con quello che ha imparato e come salvarsi la pelle, nel senso metaforicamente parlando, ma neanche tanto metaforicamente parlando. Allora, andando con ordine, io porto in Italia questa teoria economica che ha un nome strano, si chiama Modern Money Theory. Ora ovviamente già l'economia per il 99% delle persone è una palla, una noia tragica, nessuno se ne vuole occupare, neppure persone cosiddette acculturate. Poi in più un nome così strano chissà cosa vuol dire. Allora, bisogna comprendere un fatto che è fondamentale nella vita di tutti, letteralmente di tutti. quando noi esseri umani siamo, almeno in questa parte del mondo, usciti dalla tirannide, cioè usciti da quei sistemi dove avevi il principe, avevi il barone, avevi la chiesa da una parte, avevi gli imperatori dall'altra, avevi signorotti, avevi padroni, gente che dettava legge, vita morte su chiunque e non c'era possibilità di dire niente, la gente, cioè queste persone erano meno che animali. A volte valevano meno degli animali, detto sinceramente, proprio dal punto di vista del proprietario. Ora, una volta che siamo usciti da questo sistema e abbiamo cominciato nel Settecento, piano piano, grazie al pensiero di uomini che sono passati come uomini illuminati, di luministi e tanti altri, abbiamo cominciato a dire, beh, insomma, in fondo la gente qualcosa conta, in fondo la gente ha dei diritti, la gente deve avere dei diritti, la gente deve stare meglio, eccetera, no? E questi signori, questi padroni feudali del mondo, di tutto, della vostra vita, dell'economia, di tutto, devono perdere qualcosa, perché se no la bilancia non si mette in pari e non si crea giustizia. Ecco, abbiamo cominciato in questo modo, sono passati quasi 250 anni da quei tempi, d'accordo? e il mondo ha visto una trasformazione enorme, ok? Cioè, guardate dove siamo, solamente centinaio di anni fa, probabilmente tutti qua dentro, io incluso, saremmo stati servi della gleba, incapaci neppure di scrivere o di leggere, capito? Niente, proprio le nostre famiglie di origine da cui ciascuno di noi proviene erano ridotti così, erano messi così. Oggi siamo qua, bene, perfetto, dovete vederla dal punto di vista di chi, non di chi l'ha acquisito il potere, cioè la gente, cioè le società, cioè le democrazie, voi dovete cominciare a guardare le cose dal punto di vista di chi l'ha perso il potere. Cioè, questa era gente che si svegliava una mattina e comandava il mondo, comandava l'universo, non c'erano giudici, non c'era un tribunale, non c'erano leggi, non c'era niente, c'era la parola del signorotto, quello lui diceva, il proprietario, il padrone, tac, tac, il prete, diceva una cosa, tu eri morto, non morto, finito, non finito, lavoravi, non lavoravi, questo era comune qui nelle campagne, lo sappiamo tutti, il potere di vita e di morte. Ok, questi hanno perso sta roba, non è che gli è nata bene e ti perda, non è che l'hanno persa volentieri, hanno perso ricchezze inimmaginabili, d'accordo? Hanno perso il potere di dire al contadino che non si era levato il cappello davanti alla signora in Siberia, con la moglie, via, non c'erano avvocati, non c'era niente, zero, e questo non succedeva 300 anni fa, succedeva nella Russia zarista, è un bellissimo romanzo di Turgheniev, racconta questo episodio che lui ha visto con i suoi occhi, pochi decenni fa, diciamo, ok? Non tantissimo fa. Hanno perso questa roba, hanno perso ricchezze immense, pensate agli sfruttamenti coloniali, pensate all'era industriale, pensate ai profitti che hanno fatto i grandi nomi dell'industria, che hanno fatto la storia dell'Europa, i Krups, i Siemens, i Rothschild, eccetera, questi grandissimi nomi, questi hanno perso potere e ricchezza in quantità incredibile, non gli è andata bene. Allora, dovete capire che non sono rimasti seduti a casa a dire, beh, vabbè, avevo 27 tenute, 6.000 persone che lavoravano per me a mezza moneta al giorno, adesso non ho più le 27 tenute, ne ho 5, ho l'aereo privato e non ho più 27.000 persone che lavorano per 5 centesimi, ma ne ho 200 o 300 che lavorano per me. Non è che si sono accontentati di questo, sono rimasti a casa a dire, beh, abbiamo perso, pazienza. È logico, è intelligente pensare che le élite abbiano tentato e pianificato in qualsiasi modo possibile e immaginabile di recuperare il potere che avevano perduto. Il sistema democratico non gli andava bene, non gli è mai andato bene. E non è che, ripeto, sono rimasti a casa a far nulla, hanno cominciato a lavorare sodo. E questo è stato l'oggetto della mia ricerca, quando iniziai a pensare di scrivere il più grande crimine. Mi posi il problema di dire, ma se è vero che oggi, anche se abbiamo la democrazia per finta, anche se abbiamo gli stipendi, l'Inps, le pensioni e l'ambulatorio e il medico di base, d'accordo, e nessuno dei nostri bambini lavora più in miniera per una moneta al giorno, mezza moneta al giorno, anche se abbiamo questo. Però, voglio dire, noi oggi, questa gente oggi, che ha ripreso abbastanza potere da poter creare un intero continente dove i diritti dei cittadini e dei parlamenti sono stati distrutti, come hanno fatto ad arrivare fin lì? Avevano tantissimo potere, gradualmente l'hanno perduto man mano nei decenni e nei secoli, in due secoli e mezzo. E oggi l'hanno recuperato abbastanza da poter riuscire, senza che nessuno se ne accorgesse in realtà, a riacquisire abbastanza potere, da togliere il potere ai parlamenti nazionali, da togliere il potere alle Costituzioni, da togliere il potere economico agli Stati, da riprendere in mano quasi tutta la gestione della ricchezza del mondo. E allora io mi sono posto questo domando e ho detto, io devo raccontarla questa storia. Devo riuscire a fare una ricerca seria, approfondita, con degli accademici importanti, non gentette da quattro soldi, gente che abbia veramente approfondito le questioni, e raccontare come questo è successo. Cioè come questo colpo di Stato finanziario che ha travolto anche l'Italia nell'ultimo anno, sostanzialmente, e che è solamente il punto d'arrivo di un processo lunghissimo, si è potuto verificare. Ecco che cominciamo a scoprire un mondo che non immaginavamo, cominciamo a scoprire che realmente queste famiglie, questi grandi industriali dell'Europa, queste famiglie a una volta nobili, questi chiamati rentiers, venivano chiamati e sono ancora chiamati rentiers, hanno lavorato in maniera molto diligente, molto capace, finanziando con miliardi il loro lavoro per riportare una situazione, naturalmente compatibilmente con la modernità, non potevano più riportarci al carro, ai gendarmi e alle galere sotto ai castelli. hanno dovuto farlo nei limiti della modernità, ma hanno potuto riportarci a una situazione di neofeudalesimo. Perché quello che noi oggi viviamo, anche se questa sera abbiamo mangiato la cotoletta, abbiamo guardato la televisione e domani andiamo a Lido di Spina a fare il weekend, noi oggi stiamo rivivendo una situazione di neofeudalesimo. Perché quello che voi avete, e che oggi considerate il benessere sostanzialmente, non è che una briciola in realtà, una briciola di quello che potreste avere, una piccola miserabile microscopica briciola. E tutto il resto che voi non avete, non avrete mai, per non parlare di quelli che non vanno a fare il weekend a Lido di Spina, perché sono stati licenziati, o hanno delle situazioni a casa drammatiche, perché hanno mutui da pagare e non possono veramente neanche immaginare di uscire più a mangiare la pizza con i figli. E tutto quello che voi non avete, l'hanno acquisito loro. Se lo sono ripreso. L'avevano perduto dal Settecento in poi man mano e adesso l'hanno completamente ripreso. E l'hanno ripreso con gli interessi, perché pensateci bene, la regina Vittoria, per avere quello che aveva, doveva combattere guerre, doveva mobilitare risorse immense, rischi pazzeschi, ovviamente non personali, ma sto dicendo carneficine a destra e a sinistra, un impero da controllare che richiedeva degli sforzi bellici militari spaventosi, per poi acquisire un profitto che era enorme, d'accordo, ma voi immaginate che oggi ci sono quattro persone a Wall Street che senza fare guerre e senza avere 27.000 soldati, ma con 15 dipendenti o 20 dipendenti in un ufficio, fanno gli stessi soldi esattamente identici, forse anche di più. Quindi nella realtà oggi si sono ripresi la ricchezza e con gli interessi. Se la sono ripresa in maniera molto più furba. Nessuno può neanche dire, ma hai fatto sparire il mio padre impiccato a un gancio di ferro in una segreta di Parma perché protestava contro le ingiustizie. Nessuno neanche può più dire questo, anzi no, adesso c'è la democrazia. Noi possiamo dire quello che vogliamo e loro si stanno arricchendo molto di più di prima, come prima, molto di più di prima, alle nostre spalle. E siamo noi quelli che pian piano stiamo perdendo il potere di acquisto dei nostri stipendi, che rispetto agli anni 70 è calato fino al 72%. Questa è una cosa che non scrive il Corriere della Sera, non lo dicono neanche a Ballarò, però è così. C'è un bellissimo studio che fra l'altro è della Bocconi, dell'Università Bocconi fra l'altro, che è quella di Monti, perché qualcuno dentro che ancora sa studiare alla Bocconi c'è, che parla di crolli del potere d'acquisto degli stipendi dal 75% a oggi fino al 72%. Voi avete perso questo. Chi qua ha i capelli bianchi si ricorda, io me lo ricordo benissimo perché ero bambino, che una persona che lavorava in casa riusciva non solo a mantenere una famiglia, ma fagli fare anche le vacanze. Due persone che lavoravano, facevano le vacanze, mandavano i bambini al mare e pagavano un mutuo. Sono poteri d'acquisto che oggi sono inimmaginabili, ma non solo. Rispetto al potenziale tecnologico che abbiamo, abbiamo ancora una sanità da medioevo e non abbiamo una sanità migliore, non perché non sia possibile, non perché non ci siano i mezzi, ma perché non vogliono darceli, semplicemente non ci le vogliono dare. Potremmo tutti lavorare per vivere benissimo nella piena occupazione italiana un terzo di quello che lavoriamo, con lo stesso reddito, con lo stesso standard di vita, anzi di più. Però non ci concedono di farlo. Potremmo portare via tutta la metalmeccanica italiana che sta rotolando giù dal burrone, prendere tutta la Fiat, mandare il signor Marchionne in vacanza in Canada, riprendere tutta quella gente che perderebbe il lavoro, farla rilavorare dall'altra parte con stipendi migliori e non avere più questo ricatto, questo capio sulla testa del fatto che la Fiat ci sta o la Fiat non ci sta, che c'è o non c'è, l'investimento non investimento. Potremmo dire agli investitori internazionali che oggi non scommettono più sui titoli di Stato italiani, andate al diavolo, chi se ne frega? E avremmo con questa economia gli investitori che invece tornano a bussare alle porte dell'Italia, ci pregano in ginocchio di comprarci i titoli di Stato. Vorrebbe dire una società che si democratizza veramente e che riesce a godere di uno standard di vita che è dieci volte quello attuale, per tutti. Allora, questa presentazione specifico non è il parto della fantasia di Paolo Barnard, è il parto di un'economia che ha cento anni di storia e che ha questi padri, che elenco molto rapidamente. Questo signore, un tedesco, Georg Friedrich Knapp, è stato un grandissimo economista, è importante perché è il padre di questa teoria che si chiama il cartalismo, non è difficile, ve lo spiego in tre secondi, è la cosa che sta poi alla base di tutto quello che vi ho appena detto, vi ho appena detto voi potreste avere dieci volte di più di quello che in realtà vi dicono che non potete avere, adesso ci sono i tagli, bisogna risparmiare, anzi bisogna stringere la cinghia, semplicemente perché chi comprende, come fece per primo nella storia Friedrich Knapp, il valore del cartalismo, cioè che la moneta, allora era la carta, oggi è moneta elettronica per la maggior parte, che la carta moneta non ha nessun valore per lo Stato che la emette, ha e acquisisce un valore solamente per chi non può emetterla e deve lavorare per averla, ma per lo Stato che emette la moneta, la carta è carta, è una unità di conto senza valore intrinseco si dice in economia, unità di conto che lo Stato produce dal nulla, non è un peso per lo Stato, non è un indebitamento per lo Stato, lo Stato ne può fare un uso illimitato, all'interno di alcuni parametri di sicurezza, ma sono pochi e anche abbastanza semplici da comprendere, questa carta non ha valore per lo Stato, vuol dire che lo Stato la può creare e darla a voi, dopo lo vediamo più nello specifico. Un altro padre di questa economia è John Maynard Keynes, che ha fatto uno di maggiori economisti della storia dell'umanità, Mitchell Ince è un altro, Abel Erner è un nome importante perché è un uomo che viene dal retroterra nostro, non è un accademico, lui iniziò come piccolo imprenditore in America e aveva una, non so se è un magazzino di qualcosa eccetera, che fallì miseramente nella crisi del 29 e dovete capire come si sentì lui, si sentì esattamente come si sta sentendo questa mia amica che ha investito tutto quello che ha in un negozio nella provincia di Bologna ed è lì che è impiccata tutti i giorni perché con la crisi la gente non viene a comprare. Lui fece una fine ancora peggiore perché fu travolto dalla crisi del 29 e solo che si incapponì e disse ma io devo capire perché l'economia mi ha sottratto i miei clienti, non mi arrendo a dire c'è la crisi economica, voglio capire. È diventato un economista, un grandissimo economista accademico, insegnava come vedete all'università di Cambridge e la cosa importante è la finanza funzionale perché lui ha detto, ha scritto sulla differenza fra la finanza ortodossa, quella classica, quella che leggete sul Carlino, sulla Repubblica e nei telegiornali e la cosiddetta finanza funzionale che si rifà sempre al principio del cartelismo. Cioè esiste un modo per lo Stato di gestire la moneta che è funzionale. A che cosa? Alla piena occupazione, ai pieni servizi sociali, alle piene infrastrutture, alla piena produzione delle aziende, al rilancio produttivo del Paese, eccetera. Lui disse, noi andiamo avanti per schemini e dogmi che ci vengono insegnati nell'università dai grandi tromboni dell'economia e questa è la finanza ortodossa. Poi c'è la finanza vera, quella che veramente serve alla gente, la finanza funzionale di Abel Erner. Wynne Godley, altro economista importantissimo, vi farò vedere dopo che cosa sono i suoi bilanci settoriali per capire esattamente come è possibile, come è veramente possibile che uno Stato che ha una moneta in mano possa fare quello che ho appena detto, che sembra incredibile. Heiman Minsky ci ha parlato della instabilità finanziaria, cioè del processo, esattamente del processo che ha portato alla grande crisi finanziaria del 2007 e moriva nel 1996, per cui ce l'ha preso. Charles Goodhart, dalla Banca d'Inghilterra, è l'economista oggi vivente, più autorevole, che sostiene esattamente quello che io vi sto dicendo e vi spiegherò anche più avanti, cioè che questa emissione della carta, della moneta da parte dello Stato, che crea un debito che è del tutto fittizio, il famoso debito pubblico, non è un peso né per lo Stato, né tantomeno per i cittadini. E qui ribaltiamo completamente la prima grande retorica, che è quella del debito pubblico, è il nostro debito, è il debito dei nostri nipoti. Questi sono gli economisti che porto in giro per l'Italia, sono economisti di altissimo livello, sono quelli che verranno a Rimini e a Cagliari per il 21 ottobre e il 27-28 ottobre, sempre che si faccia. Allora, qui c'è una serie di slides che ho fatto per le imprese, perché questa presentazione la faccio anche quando parlo agli imprenditori, però non è che qua ci interessi particolarmente, almeno che non ci sia qualche imprenditore qua che dopo le vuole vedere e gliele faccia vedere. Allora, andiamo al primo punto, che è il punto più importante. La modern money theory, questa economia che parte dal cartalismo di NAP dell'Ottocento, vi dice, e vi ho appena detto, che in realtà se uno Stato è proprietario della propria moneta, può decidere di usare questa carta, che per lui non è debito e non è debito neanche per i cittadini, per il benessere di tutti i cittadini. Questo l'Italia fece per un periodo, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si comportò esattamente in questo modo, chiamiamolo keynesiano, post-keynesiano, cioè o modern money theory, anche se allora la modern money theory ancora non era stata coniata come termine. L'Italia fu un paese che spese molto, il Dio Stato produsse questa carta e ne spese tanta. Per far che cosa? Per riportare una nazione che era sotto le macerie della guerra e dove il maestro Manzi in televisione insegnava l'italiano agli analfabeti, questo era l'Italia, c'erano gli analfabeti, tantissimi, nel sud addirittura quasi una maggioranza. Per prendere questo paese che era messo peggio di come è messa l'Albania oggi o il Kosovo e portarlo a diventare la settima potenza o quinta o settima potenza del mondo. L'Italia è stata presa dalle macerie degli analfabeti e della guerra e è stata portata una società agricola, urale, senza miniere di carbone, senza giacimenti di petrolio, senza praterie sterminate con 100, 200, 300 milioni di animali, senza ricchezze minerali, pazzesca, è stata portata da niente a diventare il settimo paese. Quindi questo piccolo paesino lì in mezzo è diventato. E io quando ero ragazzino, a 12-13 anni, mi ricordo che già mi chiedevo ma com'è possibile che noi siamo così forti da essere entrati nel G7? Cos'è che abbiamo? Evidentemente andiamo bene, non mi rendevo conto. Esattamente perché lo Stato fece questa cosa, spese molto per noi, ci creò tutta questa ricchezza. Naturalmente cosa succede? Che poi coloro a cui non va bene, coloro per i quali non è accettabile che la democrazia arricchisca la cittadinanza, hanno creato una ideologia, che è il neoliberismo, ideologia economica neoclassica, che ci racconta esattamente il contrario. No, 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 ma no, no, lo Stato ha speso ma si è indebitato, ha sbagliato. Adesso i soldi che avete dovete restituirli, siete indebitati, non va bene così. Andava tutto bene fino a che questi signori non hanno preso il sopravvento e ci hanno raccontato che l'Italia era un paese di spendacioni, a parte il fatto che non è vero. E lo vediamo subito. Questi dati che io prendo, li prendo dalla spesa dello Stato dell'Unità d'Italia oggi, vedete qua, questo è il governo italiano, Ministero dell'Economia della Finanza, ok, qui non sono dati inventati da chissà quale giornalista, ora voi vedete rapidamente come in questo grafico si dimostra che l'Italia, che è verde, nella spesa pubblica in percentuale sul PIL, nella realtà, partendo dagli anni 60, è sempre stata in mezzo alle medie europee e internazionali, non è mai stato, mai stato il paese che spendeva più degli altri. Ha superato di un poco, negli anni 90, la media dei paesi europei, poi si è allineata fino a congiungersi di nuovo verso la fine del 2009. Questo non è un paese che sta spendendo in maniera stratosferica. E questo altro grafico è molto interessante da vedere. Queste sono sempre la spesa delle amministrazioni pubbliche dell'Italia sul prodotto interno lordo. L'Italia, secondo, guardate la media dei paesi europei, questa è l'Italia, vedete che noi abbiamo delle percentuali che sono nella media europea, assolutamente dentro la media europea, ma addirittura, per esempio, sotto la media francese, che comincia a essere già sul 50%, molto più alta di noi. Se poi vediamo gli anni più recenti, ancora di più, l'Italia qua, la Francia molto più spendaciona dell'Italia, il Belgio anche, siamo sempre nella media europea. L'Italia non è vero che è stato un paese di spendacioni, prima bugia. Questa è un'altra bugia che ci raccontano. Rapporto debito-prodotto interno lordo. Questa è l'Italia che noi persone più anziane qua dentro abbiamo conosciuto. I Forlani, Spadolini, Fanfani, Craxi, Demita, bla bla bla. Gente, per carità, non certo politici raccomandabili, ma stiamo sull'economia però. Guardate il debito pubblico italiano, la parabola che ha fatto, non è stato un disastro fino alla caduta della Prima Repubblica. Guardate dove si è impennato il debito pubblico italiano nella realtà, con i governi tecnici del post-Tangentopoli, fino ad arrivare a Berlusconi, con Berlusconi leggermente cala, cala ancora con l'arrivare ad Alema e Amato, e poi dopo si rimpenna in tutti gli anni successivi. Questo è una cosa del Fondo Monetario Internazionale che riguarda l'Italia. È la spesa dello Stato e le tasse. La linea nera, grossa, è la spesa dello Stato. E queste qui sono le tasse. Come vedete, negli anni virtuosi, in cui l'Italia diventa uno dei sette paesi più ricchi del mondo, la tassazione è sempre stata di molto inferiore alla spesa dello Stato. Lo Stato ha sempre cartalisticamente speso di più di quello che ci tassava. E lì il paese è diventato uno dei sette paesi più ricchi del mondo. Guardate il trend finale, con l'entrata nell'euro, come la tassazione comincia pian piano a raggiungere la spesa e oggi abbiamo la tassazione che abbiamo, lo sappiamo, dal 50 al 61%, dipendendo dalle regioni. E guardate questa cosa che è straordinaria, presa da Economia e Finanza della Repubblica. Dice, a metà degli anni 90, l'Italia appariva, a giudizio delle agenzie di rating che oggi hanno tagliato il giudizio su di noi, appariva come una delle economie leader dell'Unione Europea, con una crescita media anno superiore al 2% nell'ultimo decennio. Oggi cresciamo meno 2,6%. Crescevamo allora del 2%, una crescita media, quindi voleva dire che c'erano dei momenti in cui si cresceva anche di più. Standard & Poor, che sono queste agenzie di rating che avete sentito sui giornali, apprezzava il record italiano di un tasso di inflazione moderato, 5,8%. Chi è che sa qual è l'inflazione di oggi? 2, 2, 3, dipende dai semestri, 2-3%. La responsabile con notte della Banca d'Italia, nonostante il Presidente ha elevato il livello del disavanzo pubblico, deficit, 9,4%. Avevamo il deficit al 9,4%. Chi è che sa cos'è il deficit oggi? 3,4%. Ok? Il deficit italiano oggi è al 3,4%. 9,4%. Debito pubblico, 124%. 4 punti superiori al debito di oggi. Più alto del debito di oggi. D'accordo? Allora, com'è che negli anni 90 l'Italia appariva a giudizio dell'agenzia di rating come una delle economie leader dell'Unione Europea? Qual era il motivo? Cos'è successo? Perché negli anni 90 avevamo la lira, la moneta cartalista che lo Stato poteva spendere come voleva e aveva speso nei 30 anni precedenti come voleva. E aveva speso a debito nei 30 anni precedenti, creando la settima maggior potenza economica del mondo. E grazie solo a questo, in quegli anni di agenzie di rating, nonostante avessimo deficit più alto, debito più alto, inflazione più alta, ci giudicavano come una delle economie leader dell'Europa. Oggi abbiamo dei parametri economici virtuosi, quelli che piacciono a Monti, virtuosi, siamo i pigs, cioè i maiali d'Europa. Nella vergogna dell'Europa economicamente, con una crescita meno 2,6, con una disoccupazione che sta arrivando a un livello spagnolo, abbiamo il 34% dei giovani disoccupati, la disoccupazione è al di sopra del 12% e via dicendo. Cos'è successo? Siamo passati all'Euro. Cioè lo Stato, passando all'Euro, ha perduto la carta, ha perduto il suo cartalismo, ha perduto la possibilità di emettere questa carta, questa moneta, di inventarla dal nulla e di spenderla in modo keynesiano per arricchire il Paese. Allora, prima di passare a questo, vado alla lavagna un attimo, perché dobbiamo capirlo bene, questo concetto, e questo è Win Godly, questo concetto di che cosa significa per un Paese avere una moneta, cosa significa avere un bilancio dello Stato, cosa significa avere un bilancio in passivo, un bilancio in pareggio, un bilancio in attivo. Il bilancio in passivo è il momento in cui lo Stato spende di più di quello che vi tassa, quindi usa la carta, è cartalista, capendo, comprendendo che questa sua emissione non è un debito per nessuno, tanto meno per lui, tanto meno per i nostri nipoti. Avere un bilancio in pareggio vuol dire che lo Stato decide di spendere e di ritirare dal pubblico tutto quello che ha speso, cioè dare 100 e togliere 100. E il bilancio inattivo è addirittura il contrario, cioè lo Stato spende 100 per i cittadini e di tassa 120. Così questo signore che si chiama Stato accumula un tesoretto che non si capisce a cosa serva, non si capisce chi serva. Allora, questa è l'Italia. Questo è il nostro Paese. E come dico sempre, ogni Paese, ogni nazione ha due tipi di ricchezze. Una ricchezza finanziaria rappresentata dal denaro e da tutto quello che è denaro. È denaro anche un titolo di Stato, è denaro anche un titolo di una banca, eccetera. E ricchezza reale. Ricchezza reale sono le auto, le case, i campi, le industrie, tutto quello che è il cibo, la carne, tutto quello che è ricchezza reale. Allora, in questo Paese ci sono due entità e solo due. Il governo e il non governo. Questo è G e questo è non G. Semplice. Che cos'è il governo? Il governo è tutto l'apparato pubblico, tutta l'amministrazione dello Stato, questo è il governo. Tutto ciò che non è amministrazione dello Stato e apparato pubblico, cioè tutta la cittadinanza, le imprese, i bar, i negozi, i mestieri, i campi, i contadini, tutto quello che non è governo è settore non governativo. Ciascuno di questi due settori, se ci pensate bene, ha esattamente la stessa divisione di ricchezza. Tutti noi abbiamo soldi e cose, la maglietta, la casa, il trattore, il computer o appunto i risparmi in banca o i debit in banca, perché sono soldi anche quelli. Allora, lo Stato ha denaro e cose reali, noi abbiamo denaro e cose reali. La domanda che ci dobbiamo fare è, dimenticandoci per un attimo lo Stato, qua dentro, all'interno di questo settore, che siamo noi, chi crea denaro? Se noi ci mettiamo tutti quanti, facciamo per comodità di ragionamento, immaginiamo che noi siamo il settore non governativo, cioè siamo tutta l'Italia, tutta l'Italia dei mestieri, delle aziende, delle professioni, dei cittadini, siamo tutti chiusi qua dentro. Allora, qui dentro, chi crea denaro? Chi è che è in grado di creare denaro? Perché vi faccio questa domanda? Perché dobbiamo capire come facciamo tutti noi ad acquisire più ricchezza finanziaria per avere un migliore reddito, per avere un migliore standard di vita, per avere più tutele, per avere più servizi, per avere tutto di più. Abbiamo bisogno di creare più finanze per questo. Chi di noi ha denaro? Qualcuno di noi ha la stampatrice di bigliettoni a casa, nessuno ce l'ha, se non a parte qualche falsario. Nessuno di noi ha la zecca, nessuno di noi possiede una banca. Noi abbiamo delle attività. Quando un'attività commerciale fa soldi, cioè ha successo, è logico che quei soldi derivano da qualcun altro. Allora, se questa signora è un'imprenditrice e ha lanciato un prodotto che sta venendo da pazzi, è perché qualcuno qua dentro glielo sta comprando. Quindi lei ha accumulato del denaro, ma qualcuno l'ha perso qui, gli è uscito dalle tasche, d'accordo? Cioè è logico immaginare e pensare, ed è assolutamente vero da un punto di vista economico, che tutto il denaro che circola qua dentro è semplicemente un giro di vasi comunicanti. Si alza da una parte e si abbassa da un'altra. Se qualcuno guadagna, qualcuno spende. Se qualcuno risparmia, qualcuno si indebita. Non c'è possibilità di far sì che tu, tutti noi qua dentro allo stesso tempo cresciamo di denaro. E da dove viene? Se qui cresce, la deve calare. Se la cresce, qui deve calare. Non c'è pezza. D'accordo? Le banche qua dentro, e stanno qua dentro, le banche, creano denaro. Questo è vero. Chi lavora con le banche sa che le banche creano un denaro, però le banche creano anche indebitamento. Cioè per ogni singolo centesimo di denaro creato dalle banche esiste un indebitamento. Di nuovo si è alzata una colonnina e si è abbassata una colonnina da qualche parte. Neanche le banche possono creare del denaro al netto. Cioè un denaro che entri in questa stanza, che benefici tutti, senza che nessuno se ne sia privato o senza che nessuno si sia indebitato. Qua dentro non si crea denaro. È impossibile. D'accordo? Allora, come si fa ad avere più denaro qua dentro? È giocoforza immaginale che è l'unica possibilità che un contenitore esterno da qua crei un valore finanziario e lo immetta qua dentro. D'accordo? E questo è quello che fa ogni singolo Stato al mondo attraverso quella che si chiama la spesa pubblica. Lo Stato, proprietario di una moneta, il dollaro, la sterlina, la lira, il marco, eccetera, crea questa moneta al lato della spesa, compra un ospedale qua dentro, paga gli operai che l'hanno fatto, l'azienda che l'ha fatto, paga l'indotto dei prodotti che sono stati venduti per fare quell'ospedale, costruisce una strada, paga stipendi a insegnanti, a consulenti, alla polizia, ai pompieri, eccetera. Ok? Quindi crea una spesa che entra qua dentro. Qui nessuno si è privato di un singolo centesimo nel momento in cui lo Stato ha deciso di costruire con l'ospedale. D'accordo? Quindi è il denaro che è entrato. Poi cosa fa lo Stato però? Fa un'altra cosa che è un po' meno carina. Tassa. Ok? E quindi prende il denaro che solo lo Stato può aver creato, perché nessuno di noi può creare le lire, i marchi, i dollari, gli yen, eccetera. Prende il denaro che lo Stato ha creato e che ha messo qua dentro e lo tira fuori da qua. Se ne riappropria. Attenzione al gioco. Allora, è ovvio che se lo Stato spende 150 e tassa 100, ci lascia qua dentro al netto 50. Ok? Questo vuol dire che tutta questa cittadinanza italiana si è arricchita di 50, senza essersi privata di un singolo centesimo. Ha messo 150, ha tolto 100, ci rimangono 50 netti. Perfetto. Se lo Stato decide di mettere 100 e di togliere 100, qua dentro ci rimane zero. Siamo esattamente da capo. Non abbiamo un singolo centesimo di ricchezza finanziaria aggiunta. Non possiamo risparmiare niente, non possiamo reinvestire niente, siamo nella stessa condizione di prima. Ok? Se poi lo Stato decide sciaguratamente, dal mio punto di vista, di spendere 100 e tassare 150, qua dentro andiamo a meno 50. Un anno meno 50, un anno meno 30, un anno meno 45, un anno meno 20, dove finiamo? Finiamo nello Zimbabwe. Allora, lo Stato che spende di più di quello che tassa e lascia 50 qua dentro per tutti noi, è in deficit di bilancio. Lo Stato che mette 100 e toglie 100 e ci lascia secco, fa il pareggio di bilancio. Lo Stato che spende 100 e toglie 150, fa il surplus di bilancio. Oggi tutti i media vi raccontano che la virtù dell'Italia sarebbe il pareggio di bilancio, cioè rimanere a secco, o il surplus di bilancio, cioè impoverirci anno dopo anno di 30, 40, 50, 60, 30, 20, 50, eccetera. Con quale insensata idiozia, dal mio punto di vista anche criminale, perché questa gente sa benissimo, conosce benissimo l'economia, sa di cosa stanno parlando, con quale insensata idiozia si va convincendo i cittadini che fare un pareggio di bilancio fa il bene dell'Italia. Come fa a fare il bene dei cittadini un pareggio di bilancio, lasciandoci zero nelle tasche. È impossibile, è matematica, l'abbiamo messo in Costituzione. Oggi nella Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia deve fare questa cosa, mettere 100 e togliere 100, mette 150 e togliere 150, lasciarci sempre a zero. Questo è un impoverimento automatico della società, cioè sono gli stipendi stagnanti, i redditi stagnanti, i servizi stagnanti, le infrastrutture stagnanti, in un arco di tempo di 10, 15, 20, 50, 60 anni. È impoverimento automatico. C'è un motivo per cui fanno questo? Sanno benissimo quello che stanno facendo. Vogliono riprendersi la ricchezza, non lasciarla noi, ma questo è un altro discorso. Stiamo sulla parte tecnica. Attenzione, detto questo, chiarito un attimo il discorso dei bilanci settoriali, i bilanci dei settori, settore governo, settore non governo. Chiarito un attimo questo, andiamo a vedere una terza cosa. Qua c'è un altro settore, che lo chiamiamo il settore estero. Il settore estero è un settore esterno a noi che siamo in questa stanza. Anche loro possono spendere da noi, con le frecce così, esattamente più di quello che ci tolgono. È chiaro che se comprano da noi più prodotti di quelli che noi compriamo da loro, è ovvio che noi gli diamo 100 soldi, loro ce ne danno 150, noi incassiamo 50. Quindi è possibile che un Paese possa, diciamo, bilanciare un governo che non fa il suo dovere, buttandosi disperatamente su questi signori qua. Però capite benissimo che un sistema di questo genere è totalmente inaffidabile. Perché il settore estero, prima di tutto, può decidere di andare a spendere da qualche altra parte. Le dinamiche della globalizzazione fanno sì che adesso Paesi emergenti che tutti conosciamo riescono a produrre qualità e tecnologia ormai quasi pare alla nostra, se non addirittura pare alla nostra, a prezzi che sono 10-15 volte inferiori. Si apre una guerra, una concorrenza verso il basso che è spaventosa. L'azienda italiana a questo punto deve disperatamente tentare di vendere all'estero, perché deve giocare qua invece che avere i soldi da qui. Quindi deve mettersi in competizione con l'azienda cinese, con l'azienda indiana, brasiliana, portoghese, eccetera, tedesca, che barano i tedeschi fra l'altro, quindi hanno anche i giochi truccati. Ma voglio dire, allora cosa deve fare un'azienda italiana? Non potendo più avere niente che gli entra da qua, deve tagliare da qualche parte. Dove va a tagliare? Nello stipendio dei dipendenti, perché deve vendere le scarpe, deve vendere l'orologio, deve vendere il carburatore del trattore a un prezzo inferiore al concorrente cinese, indiano e quell'altro. E allora si parte in una gara a ribasso micidiale, dove nella realtà per riuscire ad avere più investimenti da qua di quelli che noi portiamo all'estero, finiamo per distruggere i redditi italiani. oltre al fatto che ho citato all'inizio, per cui a un certo punto questi possono decidere che l'Italia non comprano più. Per cui io sinceramente devo dire una cosa. Se noi pensiamo, come pensano certi economisti, che secondo me nonostante studiano tanti anni, non sanno di cosa stanno parlando, se noi pensiamo che un paese si possa reggere su questa gara, pensiamo veramente alla rovina dell'Italia. Noi dobbiamo avere un governo che è l'emissore della moneta, che ne può emettere tanta quanta gli ne pare, senza reali problemi, che faccia in gioco virtuoso. Spenda a deficit, specialmente nei momenti di bisogno, come sono questi, questi anni di adesso. Abbiamo l'economia italiana che si sta avvitando disperatamente e c'è bisogno di un intervento del sovrano, di chi può emettere la moneta, per iniettare beni finanziari qua dentro, vuol dire creare piena occupazione, impiegare tutti i disoccupati che sono stati resi disoccupati dalla crisi economica, impiegare i sottoccupati che sono laureati e lavorano per 800 euro, per 600 euro, creare le infrastrutture per rilanciare le aziende italiane, come hanno fatto i tedeschi, mentre dicevano noi di non farlo, che non potevamo farlo perché era spesa pubblica, loro lo facevano barando. Cioè fare tutta quell'opera di iniezioni di beni finanziari qua dentro che rilancia il Paese. Questo noi dobbiamo fare, contare su questa gente, ma attenzione, attenzione, riproduco quello schema che abbiamo appena visto in una piramide. Faccio due piramidi. Ok, lo schema che abbiamo appena visto si può riprodurre in questo senso. In cima c'è il sovrano, cioè il governo. Il governo è in cima a tutto, d'accordo? Sotto al governo, questo è l'emissore della moneta, sotto al governo c'è tutto il settore non governativo, NG, d'accordo? Che comprende banche, aziende, famiglie. Ok? Abbiamo visto che il governo può decidere di operare con la spesa virtuosa, tassare meno di quello che spende. D'accordo? Questo è. Guardate questa piramide. in cima c'è il sovrano, la banca centrale europea, emissore della moneta, sotto ci sono le banche internazionali europee e qua c'è il settore non governativo, che invece di avere banche, famiglie e aziende, ha governo, aziende, famiglie e banche commerciali, ce ne mettiamo anche quelle. Ok? Che cosa è successo? Cioè è stata creata l'Eurozona. Cosa vuol dire? Questo era l'emissore sovrano della moneta, le lire, i dollari, qui c'erano monete sovrane, i dollari esistono ancora, sono ancora sovrani. Ok? Questa è l'emissore dell'Euro, moneta sovrana adesso, solo che l'emissore della moneta, colui che poteva fare questa operazione, è diventata una banca, una banca centrale europea, formata da 17 banche centrali nazionali. Ok? Quando questo signore crea il denaro, cosa fa? Non fa come faceva questo signore qua, il governo crea spendendo, costruisce l'ospedale, paga lo stipendio pubblico, fa l'infrastruttura, eccetera, paga il poliziotto e il pompiere. Quando la BCE crea il denaro, lo immette dentro le banche di investimento internazionali europee, ok? Le quali banche internazionali di investimento europee prestano il denaro, gli Euro, direttamente al governo che sta nel settore non governativo, cioè il governo italiano è diventato esattamente come il signor Mazzetti, qua dentro, che per comprare l'auto va alla finanziaria sotto casa e dice ho bisogno di soldi per comprare l'auto e la finanziaria gli dice te li do all'8%, prenderlo e lasciare. Questo succede adesso con l'Euro. Il governo italiano va dalle banche che hanno ricevuto gli Euro direttamente dalla BCE e dice ho bisogno di soldi per pagare gli stipendi, per fare le infrastrutture, eccetera, ok? Perché devo darli alle aziende, devo darli ai miei cittadini, eccetera. Le banche dicono ok, 5%, 6%, 7%, ci fidiamo, non ci fidiamo. Lo spread, low spread, i tassi che si alzano, draghi che deve intervenire, la paura, l'Italia fa default, siamo nei pigs, la vergogna dell'Europa, eccetera. È tutto questo il discorso. Allora è ovvio che io come cittadino oggi non posso più chiedere al mio governo di fare la spesa virtuosa e riportare l'Italia nei G7 così come fu negli anni in cui l'Italia aveva la lira e spendeva deficit, creando un debito fittizio che non è il debito del governo, non è neppure il debito dei cittadini. Oggi non posso più farlo perché il mio governo, a pratica in mano a un criminale, ma voglio dire, forse in mano a una persona onesta, dovrebbe dire guarda mi piacerebbe tanto darti del denaro, cioè darti di più di quello che ti tasso, ma oggi non posso perché devo restituire ogni centesimo a questi usurai che stanno qui e questi non perdonano. E se non glielo restituisco non me ne danno più, perché io non posso più crearlo. L'Italia non crea gli euro, non può creare, stampare un singolo euro, non può, non è più l'emissore degli euro. Quindi un onesto governo ti devi dire guarda il cittadino mi dispiace non posso più. Allora il cittadino dice, ma come? Noi eravamo in una condizione dove avevamo un governo dal 1948 fondato dai padri costituenti della Repubblica Italiana che poteva inventare i soldi, spenderli a deficit per la cittadinanza, arricchirci tutti senza creare disastri economici e siamo stati un paese benestante dal 1948 sostanzialmente, diciamo, fino al 1999. Come? Io ero in una situazione del genere e adesso mi ha messo qui e non posso più fare niente. Ma come? Ma che cosa è successo? È stato creato l'euro. Ma come è stato creato l'euro? Ma non era la nostra fortuna, ma non era l'arricchimento dell'Italia, non era il grande rilancio economico, ma non era la fortuna dei cittadini. No, non vi hanno spiegato come si crea l'euro, vi hanno ingannati, vi hanno fregati. Questo è un progetto che a 70 anni, pensato da economisti, macroeconomisti e banchieri europei che conoscevano il funzionamento della moneta alla perfezione e che sapevano che il signor Knapp, assieme a Keynes, assieme a Innes, assieme a Godley, assieme a tutti quelli che sono venuti dopo, assieme a Kaleski, altro grandissimo economista dimenticato, sapevano che questi avevano capito come funzionava la moneta dello Stato, avevano capito benissimo che lo Stato poteva tranquillamente usare la moneta per tutelare il 99% dei suoi cittadini e creare piena occupazione, pieni servizi sociali, pieni infrastrutture, piena produzione aziendale, aiutare le aziende, cosa che gli Stati Uniti hanno fatto all'infinito, fra l'altro, voglio dire, ok, hanno capito benissimo come funzionava, allora questi hanno detto, no, 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 questa cosa non ci piace, troppo potere alla gente, troppo potere al popolo, troppo potere alle piccole e medie imprese, troppo potere a questo popolino di ignoranti, aperte le virgolette, chiuse le virgolette, a questi outsider rompicoglioni, Walter Lipman, uno degli ideologi di questo disastro americano, che scriveva, noi siamo gli outsider rompicoglioni, ok? No, 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 bisogna fare un'altra cosa, bisogna togliere a questo Stato questa capacità, perché altrimenti acquisisce troppo potere, c'è troppa democrazia e questo non ci va, eravamo i padroni del mondo nel Settecento, nell'Ottocento, torneremo i padroni del mondo, ecco cosa si sono inventati, questo, e in questo sistema noi siamo finiti, qua non si può uscire, può intervenire Draghi a fare la sua uscita, che compra titoli di Stato, per cui adesso per qualche mese, qualcosina, respireremo un po' d'ossigeno, cioè, come dire, siamo sotto l'acqua completamente, ci tirano fuori di una narice, ma scusa, io non voglio stare sotto l'acqua di una narice, io voglio stare fuori dall'acqua, respirare bene, essere contento. No, Draghi interviene, abbiamo una narice fuori dall'acqua, ok? Va bene. Ma perché dobbiamo stare in questa condizione? E perché ci hanno detto che questa era la fortuna dell'Italia? Allora, torniamo un attimo qua, per capire un po' meglio il discorso di questo debito pubblico, perché naturalmente tutto questo discorso fila molto liscio, fino a che qualcuno non vi dice, no, no, guarda che Paolo Barnard è uno che dice delle cose che noi abbiamo smentito da tanti anni. Il debito pubblico si può creare, si può momentaneamente arricchire la cittadinanza, si fa quella bella operazione delle frecce che dice Paolo Barnard, però poi è debito e tu lo devi ripagare. E allora, caro mio, Paolo Barnard ti vende una frottola, cioè ti dice la gallina, l'uovo oggi, non la, com'è detto, non mi ricordo più, l'uovo oggi è meglio l'uovo oggi che la gallina domani, una roba del genere, non li ho mai imparati bene questi. E smentisce quello che abbiamo detto. Allora, guardate un attimo questo, questo è un grafico del Fondo Monetario Internazionale riguardo all'Italia, la riga blu è il bilancio del governo, ok? E questo è il bilancio di noi, d'Italia, non governo, siamo noi. Guardate come è andata. Regolarmente, negli anni, vedete che tutto quello che il governo spendeva, scusate, si tramutava istantaneamente nell'attivo dei cittadini. Ma è logico, chiedo scusa, ma voglio dire, quando io, se io sono un fabbro che lavoro per un'opera pubblica, dobbiamo fare un ponte qua, dobbiamo fare un ospedale, dobbiamo fare fondamenta, se sono un'azienda che fa materie plastiche, devo fare i pavimenti di uffici pubblici o di scuole, eccetera, quello che mi viene pagato come azienda, come stipendio, come fa a essere il mio debito? È la spesa pubblica, la freccia, ok? Come fa a essere il mio debito? Questo non capisco. Se io compro, se io sono un cittadino, qui di migliarino, compro un titolo di Stato e do 1000 euro e quel titolo mi rende, oggi mi può rendere il 5-6%, 1000 euro stavano sul conto corrente dell'Unicredit a prendere, non so, meno dell'1%, adesso sono su un conto del Tesoro, sono sempre a mio nome e prendono il 5%. Come fa a essere il mio debito questo? Non capisco. perché la spesa dello Stato è il debito dei cittadini? Come fa a esserlo? La spesa dello Stato è sempre l'attivo dei cittadini, questa è la situazione americana, stessa storia, cioè veramente il deficit di bilancio di uno Stato a moneta sovrana è al centesimo l'attivo dei cittadini. Bilancio del Governo, bilancio del settore domestico privato. Ora, però ci dicono un'altra cosa e questo è interessantissimo, ci dicono ok, ammesso anche che sia dimostrato che in fondo è vero che un titolo di Stato arricchisce un cittadino, non lo impoverisce, che uno stipendio arricchisce il cittadino, non lo impoverisce, neanche lo in debita, a meno che poi lo Stato non decida di tassare a morte, ma è una scelta politica, ok? Tutta questa creazione di denaro, sì, vi arricchisce, però Paolo Barnard non vi dice che crea inflazione. E allora dopo è come se io vi dessi cento soldi e poi con l'inflazione ve li mangio tutti, non avete avuto niente in realtà. Allora, l'Italia aveva inflazione, certo che aveva inflazione, noi eravamo più poveri, vediamo un attimo, questo è molto interessante, ok? Questa è l'Istat, serie storica di inflazione in media italiana 54-2010, ok? La serie storica, questa è l'Italia con le sue inflazioni, andiamo a vedere le inflazioni dell'Italia, partiamo dal 1955, 2%, 3-4, eccetera, le inflazioni sono variate tantissimo, il 70, il 5%, 71, il 4, 8 e via andiamo avanti, il 12% degli anni 70, il 17%, inflazioni molto importanti, ok? Guardiamo il 1980 che io ho messo in rosso perché è l'anno in assoluto dove l'Italia ha avuto la maggiore inflazione della sua storia, il 21%. E quando vi dicono lo Stato spende a deficit, qui l'Italia stava veramente spendendo a deficit, infatti era il 1980, è stato l'anno in cui l'Italia proprio è esplosa nella sua ricchezza, talmente tanto poiché è finita in corruzione, massette, di tutto e di più, eravamo anche forse troppo ricchi. Allora, questo è il 1980, l'Italia ha il 21% di inflazione e l'economista Monti dice che Paolo Barna vi ha venduto una frottola perché spendendo tanto poi si crea inflazione. Perfetto, andiamo a vedere l'Italia dell'inflazione. Allora, questo è un grafico del OXE o ECD, OXE, non so se si legge, Economic Outlook, ok? Allora, il tasso di risparmio delle famiglie in Italia e in altri paesi europei, una comparazione internazionale. Abbiamo Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Città e Spagna, Svezia, Giappone, Stati Uniti, eccetera. 1980, l'Italia ha il 21% di inflazione. Abbiamo il 21% di inflazione, l'Italia è il paese con il più grande risparmio privato del mondo nel 1980. C'era l'inflazione, ha creato un disastro, ha impoverito gli italiani, perché gli italiani nel 1980 con l'inflazione al 21% avevano il 25% di risparmio privato nelle famiglie? Voleva dire che ogni famiglia italiana in media, in media, risparmiava il 25% del suo stipendio, dopo aver speso tutto quello che doveva spendere per vivere. Le vacanze, le ferie, l'auto, l'assicurazione, il condominio, eccetera. Come era possibile che con l'inflazione così eravamo il paese che risparmiava di più al mondo? Ma come, non eravamo lo Zimbabwe? Andiamo a vedere gli anni virtuosi. Oh, ecco gli anni virtuosi. Cominciamo a scendere con sta maledetta inflazione perché Paolo Barnard vi sta vendendo delle frottole. Adesso qui abbiamo la spesa pubblica che è crollata, siamo entrati nell'euro, non abbiamo più una moneta sovrana, il giochetto cartalista di Paolo Barnard e dei suoi economisti non funziona più. Ed ecco che finalmente abbiamo un'inflazione virtuosa. Ecco, questo è un paese serio, un paese serio, con i conti in ordine, 0,8% di inflazione. Oh, eccoci, andiamo a vedere i dati dell'economia reale. Questo è sempre l'Ocse che ci racconta che l'Italia nel 2009 ha un risparmio privato del 6,8%, è crollato di quattro volte. Eravamo il paese che risparmiava al 25%, con l'inflazione allo 0,8% risparmiamo al 6,5%. Questo deve mettere nella testa di tutti voi, anche se non siete economisti, l'idea che quando vi raccontano le frottole dei fantasmi, degli spauracchi dell'inflazione, vi raccontano bugie. Nella realtà l'inflazione non è un parametro economico che possa far paura nel momento in cui viene gestita dalla spesa dello Stato in maniera appropriata, cioè mantenendo la funzionalità dei redditi pari all'aumento dell'inflazione. Semplice. Sulla disoccupazione, guardate l'Eurozona. Questa è l'Eurozona. Ci avevano promesso che l'Eurozona sarebbe stato il miracolo dell'economia e del benessere dei cittadini, cioè l'occupazione è la prima cosa. Allora, noi entriamo nell'Euro nel 1999 formalmente nel 2002. Questa è la fonte dell'Eurostat, d'accordo? Questi sono i tassi di disoccupazione. Abbiamo Giappone e Stati Uniti e poi abbiamo sopra l'Europa dei 17, c'è l'Eurozona, e l'Europa dei 27, l'Europa generale. Guardate che roba. Ma non ho capito, ma non era l'Euro che doveva portare la fortuna dell'Europa, il crollo della disoccupazione, l'aumento della produzione. Cosa è successo? Arriviamo al 2008 che abbiamo ancora dei tassi di disoccupazione, poi guardate anche dopo, 2009, 2010, 2011. Qui stiamo arrivando al 12% con delle medie in Europa che arrivano al 40% o al 50% di disoccupazione. Ma l'Euro non doveva portare la fine di questo disastro. Perché paesi con la moneta sovrana come il Giappone degli Stati Uniti sono rimasti sempre, lungo tutto il decennio, a un tassi di disoccupazione quasi della metà dei nostri. Gli Stati Uniti hanno fatto l'impennata nel 2008 per la crisi finanziaria, ma la crisi finanziaria è una crisi artificiosa, creata a tavolino, non è una crisi della spesa dello Stato. Un'altra cosa. Il Giappone è rimasto come era prima. Guardate l'Europa che disastro. L'Euro non ci ha portato un posto di lavoro in più. E anche questo è interessante. Possiamo fermarci un attimo qui. Allora, una delle cose sempre che ci raccontano per convincerci del fatto che è necessario ribaltare questo paradigma virtuoso, che io descrivo come paradigma virtuoso, ok? Cioè questo, con moneta sovrana, ci raccontano, come abbiamo visto, il problema del debito, cioè ci dicono il debito è il debito dei cittadini e dei nipoti, che abbiamo visto che non è vero e non può essere vero. Ci dicono che si sarà inflazione, abbiamo visto che l'inflazione non conta una cippa, detto come va detta, se lo Stato sa fare il suo mestiere dal punto di vista della gestione monetaria. Ci raccontano della disoccupazione, la disoccupazione in realtà è aumentata perdendo la moneta sovrana e perdendo le spese a deficit, meno deficit, è aumentata la disoccupazione, non è diminuita. Ok? E l'altra cosa che ci dicono è questo. L'Italia è un paese che non era competitivo, ha delle colpe perché le aziende italiane non sono competitive, il mercato del lavoro italiano è troppo regolamentato, i sindacati hanno fatto troppo lavoro, hanno chiuso, strangolato la flessibilità in Italia, eccetera. E quindi dobbiamo di nuovo credere alla quarta, quinta menzogna che ci vendono oggi per imporci l'austerità e creare questa flessibilità in entrata in uscita del mercato del lavoro che vuol dire gente che sta a casa o che guadagna zero, ragazzi che non hanno futuro, non potranno mai sposarsi, nemmeno che meno fare un mutuo, eccetera. Andiamo a vedere una roba. Sapete che nel mondo esiste un consesso di economisti e finanzieri e industriali che è probabilmente forse il più alto al mondo, cioè il luogo, il momento più prestigioso di riunioni di questa gente, che è il World Economic Forum a Davos in Svizzera, passa anche nei telegiornali ogni tanto, quindi probabilmente qualcuno se lo ricorda, ogni febbraio se non mi sbaglio a Davos in Svizzera si riuniscono questi magnati dell'economia internazionale, soprattutto grandi industriali e finanzieri e fanno questo summit. In questo summit loro, una delle cose più importanti che esce dal summit sono le pagelle dei singoli stati che servono agli investitori per sapere dove andare a investire i loro soldi. Loro vanno a Davos e chiedono agli specialisti di Davos di stilare le pagelle perché devono andare a investire. E queste sono alcune delle pagelle più interessanti. nelle pagelle c'è questo indice globale di competitività. La Svezia, tanti dati interessanti, ma quello che conta per un investitore, l'occhio dell'investitore cade sempre qui. Perché l'investitore vuole sapere quali sono i fattori più problematici per andare a investire in Svezia, in questi paesi. Allora qui c'è scritto, non so se lo leggete, un mercato del lavoro troppo regolamentato. Come in Italia. Troppe tasse. Questa è la Svezia. Non andiamo bene per niente. La Fornero direbbe che bisogna deregolamentare il mercato del lavoro. Questa è la Finlandia. quali sono i maggiori problemi in Finlandia? Troppe tasse. Il mercato del lavoro è troppo regolamentato. La Fornero boccia la Finlandia assieme all'Italia. La Germania. Addirittura, la Germania è il primo problema in assoluto, non lo sai tutto quello che ci raccontano a noi che siamo... è il mercato del lavoro troppo regolamentato. Non andiamo malissimo. arriviamo alla Svizzera, poi non ne parliamo addirittura, non solo la Svizzera ha un mercato del lavoro troppo regolamentato, ma anche una forza del lavoro che è poco formata, inefficienza del governo, troppa burocrazia. A me si è malissimo. Secondo i dogmi delle austerità e dell'economia attuale, questi sono paesi che dovrebbero affrontare con urgenza un problema grave per rendersi competitivi. Questa è la pagella finale del Summit di Davos 2011-2012 e queste sono le nazioni più competitive al mondo. La Svizzera, la Svezia, la Finlandia e la Germania. Allora vuol dire che proteggere i lavoratori, non licenziarli, non troncare gli stipendi, non creare delle flessibilità spaventose, delle precarietà che sono qualcosa di allucinante, in realtà non mina la competitività di un paese. Non è vero. Non è assolutamente vero. L'Italia, la povera Italia è questa, anche lei ha, come vedete, indicata come tutti gli altri paesi che abbiamo visto, come un paese con troppe burocrazia e inefficienza al governo, troppe tasse, mercato del lavoro troppo regolamentato. Però per qualche misterioso motivo che la Fornero non ci sa spiegare, l'Italia è al 43esimo posto della competitività. Sotto la Thailandia, la Tunisia, le Barbados e via dicendo. Perché è importante vedere queste cose? È importante perché il cittadino deve cominciare a capire la quantità di balle che gli raccontano, la retorica che martellano tutti i giorni nei telegiornali, nelle radiocommerciali. Io le sento addirittura allo Zodi 105, ripetono le stesse cose. Ah, perché abbiamo il deficit, dobbiamo pareggiare i bilanci, non siamo competitivi, c'è l'inflazione, tutte le regoline. Tata, tata, capito? Te le sbattono in testa talmente tanto, talmente tanto. E così quando vedi un politico che va in televisione, che possa essere Di Pietro, come possa essere Fini, come possa essere chiunque, che ti dice la formuletta precotta, sì, perché il deficit è sbagliato, sì, perché dobbiamo pareggiare i bilanci, capite perché? È un trappanamento mentale che non si basa su nessuna realtà macroeconomica, che è semplicemente stato creato da dei pensatori economici che invece l'economia la conoscono benissimo e che ho descritto nel mio saggio di più grande crimine, proprio per portare la fine di quel sistema virtuoso che se ne fregava dell'inflazione, che se ne fregava del deficit, che se ne fregava della flessibilità sul lavoro e che portava i paesi, un paese come l'Italia, a essere il quinto o il settimo paese più ricco del mondo in soli 30 anni. Non andava bene questo. Era un'accelerazione di democrazia e di benessere della cittadinanza ignorante e rompicoglioni che non andava bene per il potere. E i sindacati non hanno capito niente, perché si sono accodati a quelle favolette, facendosi spaventare dal ricatto dell'inflazione, dal ricatto del deficit e hanno accettato tutti i piccoli colpi d'accetta, uno dopo l'altro, che hanno portato l'Italia ad avere una situazione come abbiamo oggi, con il 78% dei giovani italiani che sono costretti alla flessibilità. Quando nel 2000 il congresso degli Stati Uniti d'America, in una mia inchiesta, mi dava un documento dove c'era scritto che i congressman americani avevano sancito che la flessibilità era un'opzione e doveva solo essere un'opzione, altrimenti avrebbe devastato il paese. E i sindacati italiani non se ne sono accorti, me ne accorgevo io che facevo le inchieste, sono andati dietro a queste retoriche che ci hanno trappalato nel cervello, hanno comprato tutto, si sono bevuti tutto e oggi siamo dove siamo. Non ci sono basi economiche per le balle che ci hanno venduto. Ok? Fra l'altro, questa è la Germania, questa è una cosa carina della Germania. Fra l'altro, quando ho detto prima, due o tre volte, qualcuno forse non se ne è fatto sfuggire, che la Germania è un paese che oggi, che ha sempre dettato le regole di austerità per gli altri, mentre a casa propria barravano, e hanno barato tantissimo. Con la storia dell'unificazione la Germania ha sborsato una quantità di soldi pubblici. Questa freccia qua, in Germania, era più grande di questa lavagna, lungo tutti gli anni 90. Hanno avuto i fondi neri persino dalla Francia, dalle banche francesi, che hanno speso nelle investimenti pubblici. E mentre Andreatta andava da Van Miert e che gli diceva in Europa, il commissario diceva in Europa, lei deve chiudere i rubinetti della spesa pubblica, le partecipazioni statali, deve ripulire le aziende italiane perché devono essere privatizzate. In Germania lo Stato spendeva deficit dei miliardi di marchi per rifinanziare le aziende tedesche. D'accordo? Allora, guardate la Germania cosa ha fatto. Questo è Fondo Monetario Internazionale. Il current account è la bilancia dei pagamenti, in particolare la parte della bilancia dei pagamenti che riguarda il rapporto export-import, cioè quanto si vende e quanto si importa. Questa era l'Italia nel 1996, siamo nella lira, la bilancia commerciale, l'Italia era questo paese e questa era la Germania. Questa era la Germania. Non so perché non c'è scritto, comunque dopo c'è. Ah no, c'è ma non si vede perché è scritto qua dentro. Questa era la Germania, questa è la Francia, va bene? La Germania si presentava le soie dell'euro, nonostante tutti i miliardi di marchi che avevano speso, in netto svantaggio rispetto all'Italia. D'accordo? Perché l'Italia, essendo proprietaria della propria moneta, qua, aveva tutti gli strumenti di politica monetaria per aiutare le aziende italiane a vendere all'estero. Togli la moneta, via la moneta italiana. Adottiamo l'euro. Siamo pronti? Questo è il risultato. Eravamo qua e siamo finiti così. Questo è quello che è successo. L'euro ha distrutto le esportazioni italiane e ha avvantaggiato in Europa un solo paese, cioè la Germania. E qui ci sono altri dati che confermano in pieno. Fra l'altro, una cosa che è di nuovo che parla dell'ipocrisia della Germania. Questa è una chart che è stata rilasciata per sbaglio, perché è stata rilasciata alla stampa senza permesso, un rapporto della Deutsche Bank consegnato al governo tedesco quest'anno. E in questo rapporto la Deutsche Bank fa vedere i guadagni dalle privatizzazioni dalla metà degli anni 90 in poi. I vari paesi europei. Naturalmente i guadagni dalle privatizzazioni, come potete capire elementarmente, sono in diretto rapporto con il volume delle privatizzazioni. Perché è vero che puoi vendere un'azienda come l'Eni e tascare una quantità di soldi impressionante, ma devi comunque, nell'ambito, nell'evento generali, avere un volume di vendita tale che ti possa garantire degli alti guadagni. Quindi più si è guadagnato dalle privatizzazioni, evidentemente più si è venduto. Guardate la Germania. Predica molto bene, ma rassola molto male. E questi sono gli altri Stati europei. Siamo stati tutti spinti dalla retorica tedesca della gestione dell'economia austera a vendere i nostri patrimoni pubblici alla Germania, fra l'altro. Ok? E intanto la Germania a noi vendeva poco, anzi quasi niente. Questa è la realtà dell'inganno tedesco. Allora, questa è un'altra cosa che è spaventosa, letteralmente spaventosa. Questa è una chart della Banca d'Italia, relazione annuale 2011, d'accordo? Quindi la affidabilità è assoluta. Produzione industriale nei maggiori paesi dell'area euro. Entriamo nell'euro, siamo i primi della classe per produzione industriale. Non so se qui ci sono aziende, siete anche voi qua dentro. Ok? Questa è la Germania, è il somaro della classe, all'inizio del 2001. Ecco dove è la Germania, ecco dove è l'Italia. Questo è l'euro. Questo è successo perché hanno strangolato, togliendoci la moneta sovrana, la possibilità dell'Italia di fare questa spesa virtuosa per aiutare la produzione italiana, e qui siamo crollati. Hanno costretto tutta l'Europa a giocare qua sull'estero, che vi spiegavo prima com'è il discorso. La Germania, che aveva barato per dieci anni, finanziando pubblicamente le proprie aziende, ripulendole, lucidandole, si è presentata nell'euro con un settore export che era potentissimo perché era stato rilucidato a nuovo a spesa dello Stato, mentre l'Italia ci avevano costretti a chiudere i rubinetti dei finanziamenti pubblici alle aziende. Ok? E questo è il risultato. L'Italia perde di competitività in maniera catastrofica, non può più fare niente per le proprie aziende. La Germania, che parte avendo barato con dieci passi di vantaggio, diventa il paese che esporta di più in Europa e riesce a compensare con delle esportazioni pazzesche la perdita, perché anche per la Germania è valsa, la perdita della spesa dello Stato, perché naturalmente l'aveva fatta prima. Facile, no? Allora, lo shopping dell'Italia, ecco qui concludo, direi perfettamente nei tempi, sono dei dieci, una cosa che ha di grandissimo valore perché io vi ho fatto vedere i nomi degli economisti, ho fatto vedere brevemente il prestigio, la loro storia, ma ci sono testimonianze in più rispetto a quello che io porto alle mie platee, li avessimo ascoltati. Guardate questo studio, cioè per me è veramente, tutte le volte che lo presento mi viene da ridere, e ovviamente in una situazione così drammatica si perde un attimo di tensione, ma mi viene da ridere perché voglio dire, questo qui è uno studio prodotto, il proposito di questo studio è di osservare come gli economisti americani, quelli con il sistema della Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, economisti della banca centrale americana e delle università americane, hanno monitorato l'unificazione monetaria europea dalla pubblicazione del piano dell'or, del rapporto dell'or, che fu quello, diciamo, il rapporto che lanciò l'idea dell'unificazione europea dell'euro, eccetera, fino all'introduzione dell'euro nel gennaio 2002. Questi studiosi americani della Federal Reserve delle università americane hanno prodotto nel 2002, quindi all'entrata in gioco dell'euro, il seguente giudizio. L'euro non può succedere, è una brutta idea, non dura. E ovviamente va detto che a questo livello di autorevolezza, cioè non è l'Università di Pescara, con tutto il rispetto, no? Cioè qui siamo a livello di massima autorevolezza internazionale. Questi rapporti sono regolarmente letti dai tecnici, tecnocrati dei ministeri italiani, dai ministri italiani, dai politici che poi non li leggono, ma vengono regolarmente inviati. Quindi chi avesse voluto l'avrebbe potuto leggere benissimo. Un'altra testimonianza è il famoso economista che vi citavo prima, Win Godley, il professore merito di economia all'Università di Oxford, che nel 1997 in un'intervista all'Observer, giornale inglese, diceva, questa è l'inglese e questa è l'italiano, le nazioni dell'euro non solo rinunceranno alla propria moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Con l'Unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla Banca Centrale e dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. I governi dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Allora, questo rischia di essere troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono, infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. 1997. Più di dieci anni dopo è successo e questo è Paul Krugman, premio Nobel dell'economia, scrive su New York Times e in un'intervista alla CNBC ha dichiarato, e questo riguarda noi, quello che è successo è che adottando l'euro l'Italia si è ridotta allo stato delle nazioni del terzo mondo che devono prendere in prestito una moneta straniera, una moneta straniera, questa era la lira, era dello Stato italiano, noi siamo qua e l'euro è della BCE, è di un'entità estranea ed esterna all'Italia, quindi devono prendere in prestito, deve prendere in prestito una moneta straniera con tutta la perdita di flessibilità che ci implica, in particolare poiché le nazioni dell'euro non possono emettere la loro moneta neppure in emergenze, come oggi, soffrono disfunzioni che nazioni che hanno una moneta sovrana non soffrono e se ne vedono oggi i risultati, infatti l'America che ha una moneta propria non ha questo tipo di problemi, l'America oggi con tutti i guai finanziari che può avere ha un'inflazione bassissima, tassi di interesse, soprattutto quello che conta, sono i tassi di interesse sui titoli di Stato che sono quasi allo 0%, in alcuni casi allo 0, in alcuni casi all'1, in alcuni casi 1,4, eccetera, e non è un paese, non è nei pigs, non è... ok. E questo, non so se si vede, è un cartello che è stato fotografato da una ragazza a Roma, fuori da un'attività commerciale, dove c'è scritto, chiudiamo per sempre il 31 luglio, ho visto uomini con la forza, scusate, ho visto uomini con la terza elementare mettere su un'azienda e dar lavoro a decine di persone, poi ho visto professori con tre lauree in tasca far chiudere migliaia di aziende affamando milioni di persone, l'intelligenza non si studia. Grazie. 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 essere l'Europa? Dovrebbe? Allora, l'euro è stato creato come moneta di nessuno, non è assolutamente nello statuto della creazione dell'euro la possibilità che l'euro sia una moneta di un qualsiasi stato e questa è la stortura, l'aberrazione della creazione di questa moneta, che non è avvenuta per caso, perché in tutta la storia della creazione dell'euro si è voluto con la massima attenzione separare la capacità di emettere la moneta dallo Stato, perché per i motivi che ho detto tutta sera, perché uno Stato che può emettere una propria moneta ha delle capacità, delle potenzialità economiche che sono talmente alte e spaventano i veri proprietari della ricchezza internazionale. Allora, l'euro è nato senza questa possibilità, che poi oggi, di fronte a lo sbriciolarsi dell'Europa, è proprio oggi nel senso, letteralmente oggi, perché è una notizia di oggi, il Presidente del Consiglio Europeo, Hermann von Rompuy, che è un uomo completamente integrato nella pianificazione dell'euro e che sapeva benissimo quello che era successo e quello che sta succedendo, capisca che per un motivo politico oggi questo disastro non è più tenibile, sta veramente distruggendo l'Europa più velocemente di quello che loro volevano, con molta più velocità. Cioè, il paziente sta morendo troppo presto, per portargli via gli organi bisogna tenere l'invito un po' di più. Allora, che si stia rendendo conto di questo è un fatto. Oggi si comincia a parlare di una larvale forma di Stati Uniti d'Europa con un'autorità politica centrale, con un'autorità bancaria, scusate, con un'autorità di spesa, cioè un ministero del tesoro centrale, eccetera. Ma l'euro non è nato, signora, assolutamente non è nato, con l'intenzione di essere una moneta di uno Stato europeo unito. Anzi, è nato con l'intenzione contraria, di spaccare l'Europa, di distruggere in particolare l'Europa del Sud, per vantaggio di due paesi che sono Francia e Germania. La Francia però non mi pare che ci stia guarniando tantissimo. Quello che mi chiedo, tutti i paesi che fanno parte dell'Eurozona, che ci hanno rimesso grandemente in tutto questo periodo, sia in ragione di qualità di vita, sia in ragione di autonomia, di autonomia politica, di tutto proprio. Ci stanno riducendo, ma non solo l'Italia, tutti, a nuove colonie. Allora, per dirla con un francesismo, come facciamo ad avere tutti i maroni sul ceppo di qualcuno, visto che ci siamo cascati non solo in Italia, cioè siamo un po' tanti. Qual è il... Chi è il burattinaio? Per dirla come va detta. Allora, per rispondere alla domanda, sì, io ho pubblicato un saggio che si chiama Il più grande crimine. Sono quasi cento pagine, scritto in collaborazione con questi dodici economisti internazionali di cui mi servo, dove racconto esattamente la storia del burattinaio. Cioè, com'è accaduto che all'inizio degli anni 30 in Europa, un gruppo di tecnocrati francesi e tedeschi si siano messi insieme per creare le basi per il ritorno del controllo della maggioranza, della ricchezza nelle mani di queste famose elite di cui parlavo prima. E l'economista francese François Perou, che peraltro, lo dico sempre, va ripetuto, era un uomo di Petain, un filo nazista che andava perfettamente d'accordo con, per esempio, Hilman Schacht, che era il governatore della banca della Bundesbank di allora, contribuì alla pianificazione di questi tecnocrati con l'idea della moneta unica, scrivendo trattati che apparivano regolarmente sulle riviste dell'ordine economico del maresciallo Petain, del regime di Petain, trattati in cui raccontava come una moneta unica avrebbe sottratto agli stati la loro ragione di esistere. Il più diceva, è chiaro che se noi togliamo gli stati la moneta, di fatto, poi gli stati diventano gli zimbelli, perché non hanno più niente in mano. Inoltre gli togli la moneta e è finita per lo Stato, cioè cos'ha in mano? Un Parlamento che senza soldi non può fare più niente, senza gestione dell'economia può fare più niente. Ora, questa pianificazione, perché questi tecnocrati si sono mossi? Perché erano pagati dai gruppi industriali dell'acciaio franco-tedeschi, in particolare i Vendel e i Crups, i quali avevano capito che un'Europa dove gli stati, nelle ascenti democrazie, loro sognavano anche in Inghilterra, poi l'Inghilterra è stata troppo furba, ha vinto anche la guerra e poi nell'euro non c'è stata, avessero fatto questo passaggio, sarebbero diventati appunto degli schiavi del potere privato industriale e di fatto di chi aveva il maggior potere industriale di allora. Lei si ricorda che l'Europa nasce sulla comunità dell'acciaio e del carbone, era la nostra ricchezza, quindi era naturale che questi industriali dell'acciaio e del carbone capissero che esautorando gli stati, loro sognavano di avere la grande industria della metallmeccanica, dell'energia, dell'acciaio e del carbone al centro del potere e tutti gli staterei l'intorno come Zimbelli. E questo è stato l'inizio del progetto. Poi, nella sua trionfo moderno, perché ci sono voluti 70 anni per riuscire a fare questa moneta unica, nel suo trionfo moderno si è visto che il progetto è rimasto comunque garante del potere franco-tedesco, d'accordo, e si è visto che andava, calzava a pennello un'idea di un'Europa a due velocità. Loro capirono, negli anni 70 hanno capito che l'Europa si sarebbe spaccata in due velocità. Hanno detto, qui, se facciamo questa cosa, è l'Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, i paesi ci mettevano dentro anche il Belgio, c'era anche il Benelux dentro a questa idea, e anche il Benelux sarebbero diventati i paesi di serie B, con in cima Austria, Francia, Germania, Olanda, Danimarca e l'Inghilterra, punto interrogativo. Questo era il progetto, che si è puntualmente verificato, è esattamente quello che è successo. I pigs e i maiali, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, sono i paesi che sono caduti vittime di questa congiura, chiamiamola pure per quello che è, ed è quello che abbiamo davanti gli occhi di tutti. Ma perché? Perché è ovvio che nel momento in cui tu prendi un paese che ha dei forti squilibri finanziari, che in una situazione normale sono tutt'altro che squilibri, sono squilibri sulla carta, ma sono in realtà il bene del paese, ma trasporti questi squilibri in una situazione dove il paese non può più emettere la propria moneta, e colui che stava in cima crolla in fondo, che si è visto nella produzione industriale, capisce? E colui che invece stava in fondo perché magari aveva proprio un deficit troppo basso e non era riuscito a produrre un miracolo industriale come è stato in Italia, schizza in alto. Perché? Perché i mercati a questo punto si ti devono prestare i soldi e dicono, a un momento, tu hai un debito molto alto, a te li presto al 7%, tu hai un debito molto basso, anche se hai un'economia dei puffi, chiamiamola pure, tipo l'Austria, tipo l'Olanda, eccetera, i soldi te li presto a un tasso più basso. L'Olanda, che è un paese che economicamente faceva ridere rispetto all'Italia, ma faceva ridere, oggi è un paese che sta là sopra, perché i mercati dicono, hai un debito pubblico bassissimo, eccetera, ti presto del denaro a tassi molto più bassi e l'Olanda vola. L'Italia, che aveva un debito pubblico molto più alto, ma era molto più ricca, adesso deve prendere in presto tutti i soldi che spende dai tassi impossibili, è crollato e precipitato in fondo. E questo è stato il meccanismo. Salve, buonasera, volevo fare una domanda. Allora, io volevo sapere, con l'annuncio di Draghi di comprare in maniera illimitata debito, presumo, non immettere liquidità, quindi indebitarci ancora di più nell'eventualità che lui compri BTP, che la BCE compri BTP, bot, quello che deve comprare. Volevo sapere, perché la Germania si è opposta in maniera così dura a questo annuncio che poi era già scritto nei trattati, quindi era palese che si avverasse ciò, e invece la Germania si è immusonita e ha puntato i piedi su questa cosa qui? Giovanni non ha puntato i piedi, ha puntato i piedi l'accordo di Costituzione tedesca su due ingiunzioni che sono arrivate, che loro dovevano esaminare, perché sono tenuti a farlo, per carità di Dio, sono venuti dalla... Eh, volevo finire, mi sono dimenticato di terminare la domanda, volevo sapere, per avere questi, per avere questi, questo salvataggio da parte della BCE, noi dovremmo sottestare a che cosa? Da parte del Fondo Monetario Internazionale, BCE, Troika? Sì, allora, la Germania non si è opposta, anzi, tutto il tutto l'apparato politico tedesco al governo era completamente a favore, poi era scontato che la Corte Costituzionale tedesca non avrebbe mai accettato la responsabilità di far naufragare l'euro, magari fosse successo, ma comunque bocciando questo fondo salvatati. E si è visto come sono finite le cose, ovviamente come è previsto la Germania, la Corte Costituzionale tedesca ha approvato il fondo salvatati, salvando di fatto l'eurozona, che per noi appunto è una rovina. L'intervento di Draghi specificamente è questo, lui promette di usare l'emissore della moneta, quindi colui che può emettere gli euro in maniera senza limite, ovviamente senza limiti di spesa, così come una volta era un governo che lo poteva emettere senza limiti di spesa, per comprare titoli di Stato sul mercato secondario dei paesi in difficoltà come Italia, Spagna, Grecia e così via, Portogallo. Prima cosa, perché Draghi fa questo? Per lo stesso motivo che ho detto prima, perché hanno capito di aver esagerato col gioco, l'Europa stava crollando ad una velocità troppo, era troppo velocemente, gli stava sfuggendo di mano la cosa, le aziende tedesche non hanno finito per niente di fare lo shopping a prezzi stracciati delle aziende italiane, cosa che sta succedendo dappertutto, specialmente in Emilia Romagna nella metalmeccanica, non hanno finito gli investitori di guadagnare dalle speculazioni sui titoli degli Stati italiani, ancora hanno da fare tanti soldi e così anche negli altri paesi, quindi non hanno finito di creare sacche di disoccupazione talmente ampie da poter poi venire a delocalizzare le aziende tedesche in Italia pagando gli stipendi che pagano oggi in India, e quindi siccome questo progetto non era termine, l'Europa stava morendo prima di concludere il progetto, Draghi è intervenuto, cioè bisogna essere molto chiari su questo, è una scelta politica, non è una scelta monetaria, è intervenuto e dice compro titoli di Stati di difficoltà sul mercato secondario, ottenendo l'effetto che i rendimenti, cioè i tassi di questi titoli scendono, per cui per l'Italia il debito diventa meno gravoso, l'Italia riesce a funzionare un pochino meglio e via dicendo, ma soprattutto quello che si vuole ottenere è che i titoli dei giornali cambino, questo è il motivo, ho detto è un motivo politico per cui Draghi fa questa operazione, non monetario, l'idea è che il resto del Carlino, non sto scherzando, voi siete della zona emiliana, il resto del Carlino non scriva più BCE, spread, Italia, allarme, la gente con l'ansia, già si è stato messo in mobilità, oltretutto apri il giornale, la mattina al bar c'è scritto crisi dell'Europa, spread, Italia sul default, ansia, 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 questo si voleva ottenere che si è ottenuto, che Repubblica, che Corriere, che giornali, dicessero, ah tutto bene, adesso tutto risolto, siamo a posto, anzi l'euro funziona, anzi Monti che ha distrutto l'economia italiana, adesso vedrete che è crescita, ok? E via dicendo. Però attenzione, che prima di fare questa cosa, che ha già ottenuto il risultato voluto, cioè i titoli sui giornali, ma prima di fare nella realtà questa operazione, il trattato, la regola, il trattato che regola questa operazione impone all'Italia di sottoporsi a delle maggiori austerità, molto maggiori di quelle che abbiamo visto oggi, a delle maggiori perdite di sovranità parlamentare e democratica, ancora maggiori di quelle che abbiamo visto oggi, anzi insomma siamo lì, ok? Ha tutta una serie di regole che sono esattamente quelle regole che hanno portato l'Irlanda e la Grecia dentro al terzo mondo, dentro al terzo mondo, letteralmente al terzo mondo. Per esempio l'Irlanda ha dovuto dare impegno al Fondo Monetario Internazionale tutta la propria IMS, tutta, la cassa della propria IMS ha dato impegno al Fondo Monetario Internazionale, la quale tiene questa cassa lì e quel signore che prende la pensione domani potrebbe ritrovarsi senza la pensione se l'Irlanda non si comporta esattamente come gli dicono di fare i coloro che la governano dall'esterno, qui il Parlamento, il governo non contano assolutamente niente, eccetera. L'Italia dovrà sottoporsi a questo trattamento prima di ottenere effettivamente da Draghi che Draghi compri i nostri titoli di Stato per far abbassare i nostri rendimenti. Ecco, questo è importantissimo da sapere, vi ricordo per esempio alcune delle clausole che sono contenute in queste condizioni, l'Italia non potrà più emettere titoli di Stato senza prima sottoporli a Bruxelles, alla Commissione Europea di Bruxelles, cioè perdiamo, sarebbe come dire, io prima di comprare al mio figlio un paio di pantaloncini devo chiedere il permesso al vicino di casa, se siamo a questo livello. Prima di dire al mio figlio che una cosa è fatta bene, una cosa è fatta male, devo avere il permesso di un signore che sta nell'appartamento davanti. Ecco, siamo a questo livello di sovranità, di perdita di sovranità. L'Italia dovrà sottoporre la finanziaria di ogni anno al parere della Commissione Europea prima di sottoporre ai parlamentari. Cioè, i parlamentari italiani sono la sovranità costituzionale suprema dello Stato, perché rappresentano il popolo. Non possono controllare la finanziaria del governo prima che l'abbia approvata la Commissione Europea e altre cose di questo tipo. Quindi questo va capito ovviamente che non solo sono perdita di sovranità, ma anche le austerità. Quindi crollo degli stipendi pubblici, taglio degli stipendi privati, privatizzazione a man bassa, taglio dei servizi pubblici, privatizzazione dei servizi pubblici, privatizzazione dell'acqua, privatizzazione di tutti i servizi che oggi sono considerati comunali, considerati pubblici per il cittadino e via dicendo. Buonasera, io ho letto con piacere il suo usaggio di cui faccio i complimenti e seguo le conferenze su YouTube. Volevo chiedere, magari una cosa può essere anche banale, ma visto che conosciamo tutti il presente e si stava parlando appunto in questo momento del futuro, delle privatizzazioni, del totale crollo dello Stato, cioè degli Stati e dello Stato sociale, volevo chiedere se lei, Barnard o i suoi collaboratori come Parguez e altri vi siete posti un obiettivo sulla diffusione di queste teorie che poi sono molto semplici, che tutti pensiamo a cose difficilissime, come un'economia molto difficile e invece abbiamo scoperto che è molto semplice, anche da capire, da spiegare in tutto e per tutto. Sì, c'è un grandissimo economista americano che si chiama James Kenneth Galbraith, Galbraith è figlio di un economista che si chiama John Kenneth Galbraith, che è stato il consigliere di Roosevelt, di Kennedy, eccetera, e al quale ha scritto una frase che io mi porto sempre dentro e che ripeto con tutte le volte che mi viene dato l'occasione di dirlo, ha detto se la gente si rendesse conto di come è semplice creare moneta per uno Stato e di come è semplice gestirla, la gente avrebbe in mano il potere di regolare lo Stato. È che purtroppo i cittadini pensano di istinto che una cosa così deve essere talmente complicata, non è possibile che sia così semplice, deve essere molto più complicata. Allora dicono, vabbè lasciamo perdere, tanto non ci arriverò mai, non riuscirò mai a capirlo. Per cui abdicano i cittadini al potere di capire la moneta e il funzionamento della finanza dello Stato, per cui abdicano alla propria sopravvivenza, perché lasciano nelle mani di qualcun altro, questi criminali neoliberali e neoclassici, la gestione delle proprie vite. Ora, noi facciamo il 20 e 21 di ottobre a Rimini e a Sardegna Cagliari, ma a voi non interessa credo, il 27 e 28, una conferenza con tutti questi economisti che avete visto, dove stileremo un manifesto nazionale dell'uscita dell'Italia e dell'euro, del recupero della sovranità monetaria, del recupero della sovranità parlamentare, del recupero della produttività delle aziende italiane, del recupero del lavoro italiano, del recupero dei servizi italiani, un manifesto dettagliato che guida il cittadino punto su punto su come chiedere e cosa rispondere quando il cittadino chiede alla politica di salvare l'Italia e portarla fuori dall'euro. Cioè vogliamo dare un pamflet in mano al cittadino dove il cittadino sia in grado di dire al proprio politico di riferimento, guarda che questo è stato fatto da 4-5 dei maggiori macroeconomisti del mondo internazionale, qui c'è scritto come uscire da questo disastro, io sono d'accordo su questo, ok, questo è il mio programma economico, voglio che voi politici lo portiate in Parlamento. Questo non andiamo a fare a Rimini. Ovviamente una cosa di questo genere costa molti soldi, va preso un enorme posto, va pagato i traduttori, voli, voli d'aereo, alberghi, eccetera. Noi chiediamo a chi vuole partecipare a questa occasione, che per me è una conferenza salva vite e salva nazione, letteralmente si parla di salvare l'Italia da questo disastro, chiediamo un contributo per i cittadini di 40 euro a testa e sono tutti gli estremi sul mio sito per fare i versamenti, c'è il volantino da scaricare, c'è tutto, speriamo di riuscire entro il 5 d'ottobre ad avere la cifra necessaria perché entro il 5 d'ottobre dobbiamo decidere se questa conferenza si farà o no. Ma la risposta alla sua domanda è questa, questi sono i mezzi di diffusione di massa migliore. Poi è vero che mi chiamano a Rai 2 una volta ogni, oppure a Sky mi hanno chiamato, però capito, una volta di morte di Papa, non sono quelle le occasioni che fanno la diffusione, sono queste oppure appunto questa conferenza dove speriamo di dare uno strumento in mano a ogni cittadino. Buonasera, sento io volevo chiedere questo, siccome l'Italia è, come dicono, è un paese fortemente a rischio, in crisi, addirittura c'è un clima di guerra, come dice Monti, io volevo dire questo, perché la classe politica, invece di giocare con le parole, di rimandare alle prossime legislature, le proposte di diminuire il numero di parlamentari, non cominciano loro già da subito a tagliarsi una parte di stipendio, perché io mi trovo nella situazione di essere un esodato, nel senso che l'Inps mi ha detto, te non vai in pensione, nonostante che ho i diritti, e mi hanno tagliato fuori, non so per quanto tempo. Allora io dico questo, rovinando me, che sono un operaio, non è che io salvo l'Italia, però se i politici, se quelli che prendono le pensioni d'oro cominciassero già a ridurle da lì, non si potrebbe ottenere già qualcosa di più? Guardi, questa è una cosa importante, perché purtroppo è diventata una retorica nazionale devastante dal mio punto di vista. Lei deve capire l'ampiezza dei conti di uno Stato, gli stipendi della casta, così come viene chiamata oggi, sono i spiccioli del caffè nei conti dello Stato. Io potrei anche avere un Parlamento che lavora gratis e riuscire a salvare in Italia, non so, uno 0,2% dell'economia, forse meno dello 0,2%. Lei deve capire che noi siamo un Paese che ha bisogno di 3, 400, 500 miliardi di euro di finanziamenti ogni 2, 4, 6, 8 mesi. Non metti insieme 400 miliardi di euro con gli stipendi dei parlamentari, mi permetta, non paga le infrastrutture, non paga i servizi pubblici, non paga le strade, non paga gli stipendi, non paga la cassa integrazione, non ce la può fare in quel modo. Questa è una storica completamente vuota, sciocca, stupida e, scusatemi, idiota, che è portata in giro per l'Italia da questi falsari dell'informazione che vendono libri, gadget, fanno spettacoli teatrali, prendono per il culo gli italiani da 15 anni e non sanno di cosa parlano, non si va da nessuna parte. Io sarei dell'idea di triplicare lo stipendio dei nostri parlamentari a patto che mi applicassero questa politica economica. Io glielo triplico lo stipendio parlamentare, gli do 50 auto blu, anche alla moglie, non me ne frega niente, ma se tu mi applica questa roba qua, tu mi porti il paese dalla rovina alla ricchezza. E guarda, puoi essere grico quanto vuoi, non me ne frega niente. Lei capisce che questi stupidi che portano avanti queste idee non chiedono l'economia salva Stato alla politica, anzi, erano d'accordo con le austerità, dicono sì, sì, bisogna fare le austerità perché l'Italia è un paese di spendacioni, poi però, ah, però gli stipendi dei parlamentari devono calare, così salviamo l'Italia, ma che stiamo scherzando? Ma cosa salviamo? Non ti ripeto, guardi, non salviamo neanche gli spiccioli del caffè dell'Italia, mi creda, queste sono cose, purtroppo a me danno un fastidio tremendo perché sono perdite di tempo e hanno 500 volte la visibilità che ha l'economia seria di cui stiamo parlando noi. Intanto buonasera, la prima cosa che volevo dire è anche complimenti per l'esaustività della conferenza che ha veramente aperto molti, anzi, riempito molti buchi vuoti che tutti avevamo dal mio punto di vista. Quello che volevo chiedere non ha a che fare su come ne potremmo uscire e quant'altro. Io volevo soltanto togliermi due curiosità, una che non avevo ben capito in un discorso, la Germania ha barato che c'era ancora il marco oppure ha barato che c'era anche, che c'era già l'euro? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, la quale tengo particolarmente, fra le varie balle o palle che hanno raccontato in tutti questi anni, ce n'è una in particolare. In pratica l'Italia nel 1992, peggio di così, non poteva andare, quindi a quel punto lì non ci arriveremo mai. Io volevo capire cosa è successo effettivamente nel 92, quando l'Italia è uscita dallo SME, che ci hanno dato questo terrorismo pazzesco. Grazie. Allora, la Germania ha barato col marco. Ho detto prima, la Germania ha operato l'unificazione attraverso col, ha cominciato a lavorare l'unificazione già col marco e oltretutto con l'aiuto di fondi neri che venivano dalla Francia. Quindi ha barato col marco e ha, stavo parlando, infatti ho citato l'epoca del post-Tangentopoli, quindi Andreatta, ho citato il commissario europeo Van Miert, il libro bianco di Bassanini, insomma siamo nell'epoca dove ancora c'erano le monete sovrani. Su questo non ci sono nombri di dubbi. Ha barato col marco. Il discorso del 92 è questo. L'Italia era nello SME, cioè quindi cos'era successo. Era un mini euro, per capirci. Cos'è? Sempre la Germania. C'erano sempre di fregarci. Guardate, io lo dico una cosa, ricordate, la Germania ha accettato l'euro per fottere l'Italia. Questo io ve lo do per 100%, perché non c'era motivo per la Germania di rinunciare al marco se non in cambio della distruzione della base industriale italiana. Perché ricordatevi quel grafico della Banca d'Italia, la Germania era sotto l'acqua, era sotto, non riusciva a uscire dal buco industriale in cui si era cacciata, d'accordo? L'Italia era la prima produzione industriale in Europa, la metalmeccanica italiana, l'industria italiana, il manufatturiero italiano stava rovinando la Germania. Anche quell'altro, le colonnine che avete visto, questo si rifletteva non solo sulla produzione interna, ma soprattutto sull'estero. Quelle colonnine che avete visto, la Germania era sotto nel 1996, è stata sotto fino all'euro, dopo con l'euro, boom, è andata in alto e l'Italia è crollata in basso. La Germania accetta l'euro per ridistruggere l'Italia. Negli anni 80 la Germania si inventò lo SME, che era un altro sistema per fregare l'Italia, era di sottrarre sempre ai paesi che facevano parte di questo sistema, la sovranità monetaria. Non era un euro, l'Italia manteneva la lira, ma agganciava la lira alle altre monete europee. Volevo dire che in pratica, per essere semplici, la libertà di manovra dei ministri della finanza italiani non c'era più. Non potevano più spendere e mettere la moneta liberamente, come hanno sempre fatto, prima e dopo. Erano legate, le mani legate dal fatto che l'Italia aveva agganciato la sua moneta alle altre monete europee, per cui non poteva più fare questa operazione. Che cosa succede? Che cosa succede all'Italia dello SME? Proprio perché viene a, ho detto, è una specie di mini euro, ok? L'Italia perde la sovranità monetaria, quindi perde il potere cartalista di cui abbiamo visto all'inizio. Guardate questa, questo l'ho saltato io, ma ve lo ve lo faccio vedere molto rapidamente, perché ho proprio il grafico adatto, ecco qua, eccolo qui, un attimo, ok. Questa è l'Italia che entra nello SME negli anni 70, questi qui siamo sempre alla bilancio commerciale, cioè il potere dell'Italia di vendere la propria produzione industriale all'estero, in concorrenza ovviamente con gli altri paesi, in particolare con la Germania. Allora cosa succede? Suggeri che l'Italia, entrando nello SME, perdendo la sovranità monetaria, crolla nelle esportazioni. Guardate il grafico, siamo sotto zero, per tutto, guardate il crollo dell'Italia nel periodo dello SME, tutto fino al 92, citato dal Signore, ok? Questa perdita di valore industriale italiano aveva portato l'Italia a dei problemi gravissimi di bilancia, dei pagamenti, a dei problemi gravissimi di finanza nazionale. L'industria italiana era sotto l'acqua, ma non per un anno, per tanti anni, ok? Per cui ci presentiamo al 92, con l'Italia che è considerato un paese a rischio, perché la produzione industriale italiana è sotto l'acqua, la ricchezza che entrava dall'estero si è perduta, il paese è al naspa, d'accordo? E nel 92 si parla di una crisi epocale dell'Italia, di un default, addirittura si arrivò a parlare proprio del default dell'Italia, no? L'Italia non ce la fa più. Perché? Vi ricordatevi sempre questo schema? Lo schema delle frecce. Allora, o i soldi qua da noi entrano in questo modo, o entrano in questo modo. Qui si era chiuso il rubinetto, completamente. L'Italia aveva un ammanco finanziario spaventoso. Lo Stato faceva fatica a intervenire, proprio perché ignorante delle potenzialità libere di una moneta cartalista, faceva fatica a intervenire, aveva potuto facilmente intervenire, ma faceva fatica a intervenire ad ampliare questa freccia, che era già ampia, ma ad ampliarla tanto quanto era necessario, a sopperire per la chiusura di questa freccia, l'Italia si presenta con dei problemi economici spaventosi nel 92. Ok? Poi cosa succede? E si parla addirittura del default. Succede che uno speculatore internazionale che si chiama George Soros, che capisce bene la funzione della moneta, parte con una speculazione contro la Gran Bretagna e l'Italia. D'accordo? L'Italia non riesce a sostenere questa svendita, questo crollo del valore della lira italiana causata dalla speculazione di questo singolo speculatore internazionale di George Soros. Il sistema monetario europeo vede l'Italia che non può più sostenere la propria posizione al suo interno, Italia e Inghilterra escono dallo SME, lo SME crolla, finisce. C'è quello che dovrebbe succedere oggi, che io auspico succeda oggi, che ci sia un crollo del sistema europeo per cui l'Italia esce, se ne va, no? Il default è l'Italia, sarebbe la fortuna dell'Italia, avere la scusa, il pretesto per schizzare fuori da questa trappola. Nel 92 l'Italia fa il botto, non ce la fa stare dentro lo SME a causa di questa speculazione, di colpo esce, ma di colpo, dalla mattina alla sera. Guardate il grafico, non so se capite cosa dice il grafico. Questo è stato il 92. E questa è di nuovo la dimostrazione, infatti lo metto nella mia presentazione prima di questo, quella è di nuovo la dimostrazione che quando si recupera la piena sovranità monetaria, il Paese in un modo o nell'altro riesce a risollevarsi, o tornando a diventare competitivo internazionalmente, o rimanendo competitivo e ricco all'interno. Buonasera, premetto che io sono completamente digiuno di economia, di qualsiasi tipo di questi argomenti, però mi è sembrato molto semplice capire quello che lei ha esposto. Mi sembra paradossale che nei 70 anni che lei illustrava nessuno ci sia accorto, nessuno abbia fatto niente, non ci sia nemmeno nessuna parte politica, né di destra né di sinistra, chiunque noi abbiamo cercato di eleggere che ha minimamente denunciato, capito quello che stava succedendo. È semplice. Lei, anche nella risposta all'ultima domanda che ha fatto il Signore, ha parlato sempre di, in qualche modo, inganni che sono stati fatti. Come è stato possibile questo? Visto che è così semplice. Guardi, la risposta è semplice, anche la risposta. In realtà è semplice se uno ci si smazza la testa come un disperato, come ho fatto io, e si studia una quantità di roba impressionante, accetta di concepire l'inconcepibile, cioè accetta di dire tutta la vita, fino a bambino, mi hanno detto che il debito pubblico è un problema, adesso devo accettare che il debito pubblico non lo è, anzi è l'attivo dei cittadini, accetto nella mia testa di capire che il denaro non ha valore, se hai messo lo salto. Quindi accetto tutta una serie di aperture mentali, primo, poi studio come un disperato, ok, e a quel punto capisco il sistema. Poi lo prendo, lo rielabro, lo semplifico e lo porto al pubblico. Ora, lei capisce che questo, per un politico, un parlamentare, un deputato di una qualsiasi circoscrizione qui nella zona, eccetera, è un'operazione impossibile. Primo perché sono in media delle persone molto mediocre, in secondo luogo perché non hanno il tempo, non hanno la voglia e la politica funziona in questo modo. Io nel mio saggio ho descritto con le prove, i nomi, i cognomi, eccetera, come funziona il lavoro della lobbistica. Che cos'è la lobbistica in politica? I lobbisti e le think tank che producono i lobbisti sono organizzazioni dove si fanno dei riassuntini semplici semplici, dei temi dell'economia, della scienza, della medicina, dell'agricoltura, dell'industria, eccetera, molto semplici, semplificati, li si sottopongono ai politici e si dice ai politici, quando andate in Parlamento, quando andate a fare i comizi, quando siete in televisione, dite questo. Allora, non so, la quota è latte, quota è latte. Il parlamentare qui della zona è che di mestiere faceva il medico e che non sa niente di economia, la quota è latte non capisce niente, l'agricoltura meno che meno, cosa cavolo va a dire in Parlamento sulle quote è latte? Va da Santoro e cosa dice delle quote è latte? Schemino. L'altro parlamentare che faceva l'avvocato, quindi l'economia capisce un tubo, di macroeconomia meno che meno, di bilancio settoriali, finanza, spread, titoli di Stato, niente, capisce a zero, deve andare in Parlamento, deve andare in televisione, è fermato per la strada dalla striscia della notizia, eccetera. Cosa dice del debito pubblico? Schemino. Defici sbagliato, debito dei cittadini, tititata, tititata. Questo fanno i lobbisti. Presentano questi resoconti semplificati alla politica, per cui i politici si limitano a dire quelle cinque parole, che sono sempre tutte uguali, e tutti le dicono identiche, ok? Per cui non fanno nessuna operazione di acculturamento. Lo ripeto, da una parte l'ingiustifico, nel senso che dico, bisogna farsi dei massi spaventosi, dall'altra però non li giustifico. Perché allora se tu sei medico, sei parlamentare qui della zona, non capisci un tubo di economia, ma devi andare a votare il fiscal compact, cavoli, sei parlamentare e ti prendi il portaborse, studenti di economia, eccetera, che si fa un mass così e te lo spiega. Almeno fai questo, almeno fai questo. Avete visto, quando ero all'ultima parola, direi due, che c'era la giornalista che andava in giro a dire, avete votato il fiscal compact, cos'è? Non sapevano neanche cos'era, ma neanche avevano letto niente. E la politica accetta queste cose in questo modo, quando, finisco con la risposta, io so, perché andai in Parlamento a intervistare per report i parlementari, quando l'Italia ha firmato il trattato di Marrakesh, che è il trattato che porta l'Italia nell'organizzazione mondiale del commercio, cioè la globalizzazione. Ecco, va bene? Per capirci. Andavo molto di moda questa parola dieci anni fa. Quando l'Italia è entrata nella globalizzazione, firmando il trattato di Marrakesh, io andai in Parlamento, non c'era un parlamentare, non c'era un parlamentare che l'avesse letto. Uno. Non l'ho trovato? Uno. E hanno ratificato e firmato un trattato che ha avuto ripercussioni spaventose per l'industria italiana. Ha rovinato un'intera regione come le Marche, dove il manufatturiero delle scarpe è morto. Questi hanno firmato, vedete conto cosa vuol dire in termini di aziende, famiglie, redditi, persone, figli, padri, famiglie. Questi hanno firmato così, senza sapere neanche cosa firmavano. Perché? Perché la globalizzazione era la modernità. Basta. E questi sono i politici. Cosa vuol fare? Accettano tutto. Accettano il trattato di Lisbona, hanno accettato il fiscal compact, hanno accettato l'euro, l'eurozona. Nessuno ha capito come funzionava l'euro. Io quando dico l'euro viene messo dalla BCE e nelle banche mi guardano come se fosse un marziano. Ma come? L'euro è nostro. No, no, non è nostro. È della BCE. Ma come? Non è dell'Italia. No. Non lo sanno. Scusa, solo per replicare a quello che stavi dicendo. Ma possibile, capisco il consigliere di circoscrizione, ma anche noi abbiamo degli economisti in Italia. Nessuno, nessuno. E anche, scusa? Anche noi abbiamo degli economisti in Italia. Cioè, non solo il consigliere di circoscrizione non capisce questo meccanismo. Anche, va sì, anche di giornalisti economici. No, giornalisti economici lasci perdere. Questo glielo dico con autorevolezza. Se tu vuoi mantenere lo stipendio, il posto di lavoro, le cose non le devi dire. Punto. Guardi, lasci stare. Io a Rimini abbiamo avuto una telefonata di un giornalista della Sette, che è partito da Milano. A 20 km da Milano gli hanno telefonato. Dove vai? A Rimini, da Barnard? Eh, torna indietro. Va bene? Questo. No, non i giornalisti lasci perdere. Allora, gli economisti, dipende da che scuola vengono. Ci sono una frotta di economisti in Italia che queste cose le capiscono, sono tutti docenti universitari e sono tutti dei vigliacchi. Io ho litigato con questa gente, sono proprio diventato infame per loro, perché li ho accusati pubblicamente di essere dei vili, d'accordo? Perché fra di loro, nei piccoli gruppettini, scrivono dei papiri marxisti, delle robe che non si capisce niente di quello che è. Però queste cose le sanno, le dicono, le fra di loro. Non si sono mai esposti pubblicamente. E voglio dire, se uno stessa, un cesarato, un brancaccio, gente che ha delle cattedre, delle università italiane, si facesse quello che faccio io, la gente comincerebbe a sentire le certe cose. Anche perché Paolo Barden è un giornalista. Ma se un docente universitario di una cattedra di economia dice la stessa cosa che dico, io, per favore, mi dai una certa mano, dico bene. E questi non dicono niente, perché hanno paura, perché perdono la cattedra. Ok? Ecco, questo è il discorso. Poi ci sono tutta un'altra serie di economisti che sono formati dall'altra scuola, che è quella vincente, la scuola neoliberista, neoclassica. E questi diranno tutte le cose che dice Boboeli, Giavassi, che dicono i Monti e tutta questa gente qua. Però ci sono delle note eccezioni. Un economista molto noto, molto noto, molto in alto, che è Giulio Sapelli, che è un uomo dell'ENI, è stato un grandissimo tecnocrate, dirigente dell'ENI, insegna a Milano all'università, eccetera, eccetera. Andatevi a cercare Giulio Sapelli, la sette, da Lilligruber, andate a sentire cosa diceva, cosa ha detto dell'economia, dice le stesse cose che dico io, peggio, insulta Monti, dice che un ignorante, che l'euro ha portato l'Italia alla rovina, dice esattamente le stesse cose che dico io, ma ce n'è uno, Giulio Sapelli, uno. Salve, ormai a varie domande che avevo è già stata data risposta. Volevo dire, io ho letto recentemente il tuo libro, ed è stato, ho apprettato molto, la lucidità e la passione con cui l'hai scritto e il lavoro che stai facendo, l'ho appretto, motivo per cui ho fatto un'ora di strada per venire qua, è vero, a Rimini immagino. E' stato scioccante, però mi ha svegliato. Allora la domanda mia che si accoda a quest'ultima che è stata fatta è dove eravate voi, dove eri tu, quando dovevamo votare per l'euro, quando dovevamo decidere per l'euro sì, no. Perché io non l'ho sentito allora, tutto quello che sento adesso? Perché nel 2000, allora, a parte che non abbiamo mai dovuto votare per l'euro, questo non, nessuno ci ha mai chiesto di votare, a parte questo. Ma voglio dire, nel 2000 io mi occupavo di globalizzazione, mi occupavo sempre di questi temi di economia, stavo studiando come funzionava il grande quadro di chi veramente controlla le vite delle persone, delle aziende, delle famiglie, eccetera, e non ero entrato in contatto con nessuno che mi avesse potuto spiegare come stava funzionando l'euro, e ero ignaro completamente di tutto il progetto, poi ho avuto la fortuna, e le dico guardi che è stato, io ho un merito e una fortuna, il merito è stato quello di essermi allontanato da tanti anni dall'idea che il potere sta a Palazzo Chigi o sta in regione qui in Emilia Romagna, non sta lì il potere, lì sta la parocchietta del potere, quello l'ho capito quindi 12-15 anni fa. L'euro è stata, questa cosa dell'eurozona è stata una fortuna, perché mi sono interessato di banche e di meccanismi di creazione di monete delle banche, volevo capirci qualcosa, non trovo nessuno in Italia che mi aiutasse a chiarire bene queste cose, mi sono rivolto a degli americani molto autorevoli, i quali mi hanno pian piano portato su questa strada, e per me è stata veramente un'illuminazione, mi ricordo in particolare una notte che ero su Skype con uno di questi economisti, che salta fuori questa storia dell'euro emesso da, non è italiano, non è una moneta di nessuno, eccetera, eccetera, e mi sono buttato a caprofitto. Mi dispiace non essere arrivato prima, sono arrivato nel 2000, sull'euro sono arrivato nel 2009-2010. Meglio tardi che mai, forse ora sono arrivato. Ecco, voglio dire, ci sono arrivato e ho messo il mio nome sul ceppo, la mia testa sul ceppo, perché poi lei sa come è andata la mia carriera, ovviamente, cioè io stavo da una parte e poi, e così ho peggiorato le cose, basta, però pazienza. No, a Gabanelli si tiene stretta una poltrona che si è coltivata con tanti anni di... Ma scusi, ma guardi, voglio dire, mi permetta, secondo lei in questo Paese si riesce a stare in prima serata in televisione cinque anni, consiglio Berlusconi, se uno è una persona libera? Posso, scusa? No, no, ma capisco, ma... Gabanelli è stato da cinque anni con lì e non è una persona libera. Proprio di questo volevo parlare. Buonasera, professore. E che ci sono delle evidenti responsabilità in quello che sta succedendo, perché se è vero, come lei, almeno da quanto ho capito io, i tedeschi ci hanno tirato un gran pacco, per dirla alla napoletana, e il panorama che si prospetta è terribile, diciamo terrificante, per usare un termine quasi leggero rispetto a quello che... Non so se anche nella platea si se ne renda conto, però effettivamente quello che lei ha descritto è una cosa di proporzioni catastrofiche. Allora, quanta responsabilità hanno questi vigliacchi a cui le facevo riferimento? Cioè, gli va presentato anche un conto oppure, insomma, va tutto bene così? Cioè, ritorniamo nella lira e va tutto bene? E nel caso in cui non riuscissimo, insomma, ad uscire dall'euro e a tornare nella lira? Cioè, qual conto? A mio figlio cosa gli dico? A chi lo deve presentare? I tedeschi o ai vigliacchi che hanno venduto l'Italia? Il conto non si può chiedere, ovviamente in termini economici non si può chiedere il conto. Noi dobbiamo riprenderci una sovranità parlamentare e monetaria, dobbiamo rilanciare il paese alla grande e molto di più di quello che lo abbiamo rilanciato negli anni 70 e il conto non si può chiedere a nessuno in realtà. Quello che si può fare è, e io l'ho fatto, e io alcuni e pochi l'abbiamo fatto, è chiedere un conto giudiziario. Io auspico che siano incriminati e arrestati personaggi come Draghi, Monti, come Napolitano, come i burocrati italiani che lavorano in Commissione Europea, cioè gente che coscientemente, perché sono tecnici, hanno, e il discorso di Napolitano è separato, sono tecnici che hanno coscientemente, e scientemente consegnato il paese a una distruzione, una rovina, consegnato al paese a sofferenze umane che sono incredibili, da parte quello che va sul giornale che è l'imprenditore che si dà fuoco, ma come vive una persona tutte le sere in casa propria, quando vede il lavoro di una vita distrutto, perché ha un libro ordini da 6 milioni di euro e la banca non ti dà 5 mila euro, non te ne dà 10 mila, capito? Cioè con 6 milioni di euro di ordini sul libro, e questa è una realtà, è un'imprenditrice, non il cognome, gliela posso presentare, ci ho parlato l'altro giorno, sono andato in banca, ho chiesto 10 mila euro, non me li ha andati, ho le macchine ferme, i lateristi, fa dei lateristi, l'azienda ferma, con ordini che piombano tutte le parti, come si sente una persona così, come si sente una persona che è appunto una persona in mobilità, un esodato, voglio dire ragazzi, ma sono sofferenze umane che sono spaventose, allora questa gente che è responsabile di crimini sociali, perché poi queste cose si riflettono sui figli, perché in famiglia non si cresce bene quando papà è a casa dal lavoro, scappano le mani, c'è nervosismo, eccetera, allora si riflettono sui figli, il bambino si ricorda degli anni che ha vissuto in quelle condizioni, sono destini tarpati, perché quel bambino poteva fare un'altra cosa nella vita, non la potrà fare perché è successo quello che è successo, tutto questo calcolato a tavolino, tutto questo voluto da questi criminali che vogliono distruggere il sistema economico del sud Europa, voglio dire, questa gente che va incriminata e arrestata, ci sono gli articoli del codice di procedura penale che abbiamo citato nella denuncia, io li ho denunciati, quindi il conto lo chiedo così, con una denuncia penale. Sì, appunto, che io partirei proprio da lì, insomma, con delegittimazione di tutto quello che è stato fatto, arrestando queste persone, incriminandoli di crimini, insomma, efferati. Ha ragione, però, vede, il problema è questo, io ho lanciato questa denuncia, io è un altro avvocato, è un avvocato che si chiama Paolo Amuso, abbiamo lanciato questa denuncia, però la risposta cos'è stata? Poche centinaia di persone. Se in Italia 30.000 persone denunciavano, era una notizia che andava su New York Times, capisce, le cose cominciavano a cambiare. E' così che si cambiano le società, ragazzi, con un po' di coraggio, ma è una cosa che non ha avuto successo. Il conto lo chiederà in questo modo, altro non c'è da chiedere. Io volevo parlare di fantascienza. Diciamo che ci si riesce, che quindi rinserviscono improvvisamente chi ci sta governando, usciamo dall'euro, ci riprendiamo la nostra moneta, cosa ci dobbiamo aspettare? Nel senso che io non credo che chi finora ha cercato per ben due volte, anzi ci è riuscito per ben due volte, a tirarci dentro un meccanismo di spossessamento della sovranità monetaria, se ne possa star tranquillo a vederci uscire. Anche perché quando solo la Grecia ha accennato alla possibilità, si sono affrettati a finanziare per evitare il famoso default. Quindi mi pare che... Esatto. Allora, la risposta completa e esaustiva alla sua domanda è nel summit del 20 e del 21 a Rimini, dove per due giorni questi grandi economistici faranno il manifesto completo dell'uscita dell'Italia dall'euro con tutti i passaggi, cioè tutto quello che va fatto per uscire, e per uscire bene e per continuare ad andare bene dopo l'uscita dall'euro. Ok, vedremo di fare il possibile. Magari... Ma il problema è che adesso riusciamo a fare il summit in sé, perché per adesso le donazioni non stanno arrivando molto, per cui dobbiamo raccogliere una cifra molto alta e speriamo che la gente aderisca, anzi invito. Vabbè, comunque io non vado a fare le serate a chiedere i soldi. Ma per dire in breve, quello che ci si può aspettare per un'uscita dell'Italia dall'euro gestita con questa economia, secondo la Modern Money Theory, è un paese che non solo si rilancia, ma probabilmente porta giù, porta al crollo l'intera eurozona. E questo, fra l'altro, con il risultato di eliminare alla radice tutto il debito che abbiamo denominato in euro, fra l'altro, che se ne va in fumo. Quindi già, dici, è un bel guadagno. L'Italia può uscire dall'euro creando la piena occupazione, creando il pieno rilancio delle sue infrastrutture. La moneta italiana, la nuova lira, si apprezzerebbe immediatamente perché diventa una moneta di cui c'è un grande bisogno in tutto il paese perché bisogna pagare le tasse in lire. Chi ha l'euro, vende euro per comprare lire, si deprezza l'euro, si apprezza la moneta. Non solo questo, ma lei deve capire che nel momento in cui il paese recupera la propria sovranità di spese, recupera anche la sovranità di pagamento dei titoli di Stato. Il paese recupera la propria sovranità di spese, recupera anche la sovranità di pagamento dei titoli di Stato. Cioè, qual è il problema di oggi? Per cui noi non solo dobbiamo andare qua a chiedere ogni singolo euro che spendiamo esattamente come il cittadino va alla finanziaria, no? La finanziaria privata sotto casa, esattamente uguale. Quindi a tassi di interesse assolutamente impossibili, un indebitamento sull'altro, eccetera. Il problema è che quando l'Italia adesso emette titoli di Stato e lo fa per andare a prendere i soldi qui, questi investitori dicono noi non ci fidiamo perché avete le finanze in disordine, perché siete un paese che sta crollando economicamente, c'è una spirale di deflazione economica molto importante, chiudono le aziende, chiudono, perdono posti di lavoro, eccetera. Allora, ci caricano dei tassi di interesse enormi, perché chi compra il nostro titolo dice, io te lo compro ma mi devo proteggere dal rischio e per cui ti chiedo un tasso spaventoso. Quando recuperi, esci dall'euro e recuperi la tua capacità di pagare, si chiama, ability to pay in finanza, questo motivo decade, sparisce completamente. L'investitore non ha più timore che questo Stato non sia più in grado di onorare i titoli di Stato che compra, crolla completamente la paura, cioè si sparisce, si dissolve, perché si capisce, chi conosce la moneta capisce che questo Stato può trovare tutto il denaro che vuole per onorare i titoli perché semplicemente se lo inventa. Per cui, i rendimenti dei titoli di Stato crollano, allora l'Italia diventa un paese che ritorna immediatamente affidabilissimo. L'investimento in Italia è affidabile, gli investitori tornano, ma tornano perché con tutto il rispetto non vanno a investire in Grecia. non voglio essere per carità, capito? Ma l'Italia è un'altra cosa dalla Grecia, avevamo la più grande industria in Europa, abbiamo delle infrastrutture moderne, abbiamo una capacità aziendale che è la prima al mondo, era, ma è ancora potenzialmente la prima al mondo, cioè noi facciamo le scarpe a tutti, all'America, al Giappone, a chiunque, come piccola e media impresa, l'investitore torna a investire in Italia, capisce? A frotte, queste cose sono molto chiare e sono le cose che non si vuole che il pubblico sappia perché il pubblico deve essere e rimanere nella terrore che l'uscita dell'Italia dall'euro vuol dire che andiamo nello Zimbabwe, è esattamente il contrario, siamo oggi nello Zimbabwe e torniamo in Italia uscendo dall'euro, capisce? Innanzitutto, buonasera, volevo sapere se la MMT c'è già qualche paese che usa questo metodo di moneta e in che modo stanno andando, ecco? Certo, c'è un paese che usa la MMT senza ovviamente ufficialmente dire che è MMT e che credo che economicamente sia andando piuttosto bene che si chiama la Cina. Cina fa la MMT. Poi c'è un altro paese che fa la MMT in un settore molto particolare che ha fatto molto bene da un certo punto di vista e si chiama Wall Street. JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America e Wachovia e c'è un'altra e un'altra che adesso non mi viene in mente sono banche che hanno ufficialmente adottato l'analisi del funzionamento del fissamento dei tassi di interesse espresso dalla MMT per guadagnare quello che hanno guadagnato in questi anni. Perché hanno capito benissimo che laddove esisteva una sovranità monetaria i tassi avevano fatto un certo percorso cioè al crollo come è successo in America come è successo in Giappone in Inghilterra dove adesso i tassi sono al livello più basso nella storia del paese da sempre e hanno scommesso questo hanno fatto dei miliardi la Cina usa la MMT l'Argentina ha usato per uscire dal default argentino ha usato una parte di MMT nel periodo in cui ha usato anche solo una parte di MMT ha avuto in tre anni la maggiore crescita economica al mondo dopo tre anni nel default l'Argentina era il paese che cresceva di più al mondo aveva una crescita dell'8% poi ha smesso di usare quella parte di MMT ed è ritornata ad avere dei problemi nonostante sia ancora un paese che va piuttosto bene nella media modern money theory la teoria economica molto di quello che vi ho spiegato cioè proprio si ricorda che ho detto che noi cominciavamo con questi economisti i padri storici di questa teoria economica cioè la teoria che parte dal cartalismo che dice lo Stato può funzionare in questo modo i tassi di interesse si fissano in questa maniera i rendimenti sono questi si può creare la pieno occupazione con la spesa interna si può creare il rilancio dell'azienda con la spesa interna eccetera eccetera volevo fare un'altra domanda abbastanza poco bella perché dal momento che gli italiani sono un popolo che hanno sempre paura del cambiamento e nonostante la rovina pensano che chi stia al governo dopo tutto abbia sempre ragione la domanda è questa poniamo l'ipotesi negativa che Monti vada avanti si candida alle prossime elezioni e vinca io volevo sapere a livello neanche economico perché ne abbiamo parlato tutta la sera ma a livello sociale cosa ci dobbiamo aspettare cioè ci dobbiamo aspettare una guerra oppure andremo proprio al centro della terra senza fare niente e moriremo lentamente domanda grazie grazie io questo non glielo posso dire se devo prendere l'esempio greco spagnolo andremo al centro della terra senza fare niente purtroppo vede loro contano molto sul fatto che il cittadino già in sé si sente ignorante e disarmato il cittadino già in sé è obnubilato dall'esistenza commerciale e dalle ansie private in più l'effetto depressivo di una crisi deflazionistica di questo genere quando tu hai intorno a te l'economia che si sta sbriciolando chiudono i negozi chiudono le aziende la gente ti arriva a casa nel tuo quartiere già hai 1, 2, 10, 50, 100 disoccupati l'effetto depressivo di questo deprima ancora di più loro contano sul fatto che la gente è angosciata depressa smarrita ignorante ignorante nel senso di non conoscitrice dell'economia alla fine rinuncia non sa come muove non sa come fare semplicemente subisce noi facciamo questa opera che è unica in Italia forse anche al mondo noi portiamo l'economia dello Stato al pubblico non è mai successo nella storia d'Italia dal 1948 a oggi che qualcuno prendesse il pubblico e gli dice adesso ti insegno come funziona uno Stato mai successo ti insegnano come ti possono fare dei corsi per farti capire come funzionano le partite doppie di un'azienda ma non come funziona l'economia dello Stato perché se il cittadino si rende conto di come funziona il cittadino può pretendere la politica che funzioni questo è e questa è una parte della MMT che è molto importante MMT Modern Money Theory è una parte molto importante perché una delle cose che non va dimenticata e prima che andate a casa non la dovete dimenticare è che non solo lo Stato può indebitarsi con se stesso illimitatamente come ha fatto il Giappone come fanno gli Stati Uniti che hanno un debito pubblico che aumenta sempre dal 1837 e non hanno mai ripagato e non sono mai falliti non solo si può fare con l'operazione di spendere di più di quanto si tassa su base permanente creando ricchezza d'attivo nella cittadinanza dell'azienda eccetera ma il discorso delle tasse è estremamente importante è estremamente importante perché oggi una delle cose che usano uno dei fantasmi inflazione Zimbabue l'Italia indebitata il debito degli impoti eccetera un altro dei grandi fantasmi è il fantasma delle tasse dire ah ma l'Italia è un paese che comunque ha un'evasione fiscale per cui se solo recuperassimo quella già andremo tutto a po' non è colpa dell'euro non è colpa di Monti sono gli evasori italiani qua ce ne sono un pacco ok gli evasori italiani che sono la causa di questa disgrazia attenzione con molta serietà con molta serietà io vi devo dire che questo è un senso di colpa fra i più micidiali infondati nella storia dell'umanità dopo quello cattolico del sesso ok credo che dopo quello del sesso questo sia il secondo senso di colpa più micidiale infondato della storia dell'umanità allora chiariamo una cosa cosa sono le tasse le tasse sono un prelievo dello Stato dai cittadini lo Stato spende e poi prelieva dei soldi ma se lo Stato crea il proprio denaro da nulla così com'è perché il dollaro non lo crea non so chi lo crea il governo americano è di proprietà del governo americano lo yen la lira era italiana era di proprietà dello Stato italiano se lo Stato spende e poi tassa com'è possibile che le tasse finanzino la spesa voglio dire come faccio io a ritirare i biglietti dello stadio prima di averli dati è impossibile non posso tassare prima di aver speso la tua IRPF è questa se prima non ti ho dato le lire le lire tu non le puoi creare le creo io e te le do circolano in questo modo d'accordo allora com'è possibile che io ti possa tassare prima di aver speso come fanno le tasse a finanziare la spesa dello Stato non è vero le tasse non finanzano la spesa dello Stato è matematicamente e logicamente impossibile lo Stato prima spende e poi tasse d'accordo allora attenzione se è vero che le tasse parliamo della lira e non dell'euro se è vero che le tasse non finanziano la spesa dello Stato è vero che le tasse non finanziano gli ospedali non finanziano i servizi pubblici non finanziano i poliziotti i carabinieri non finanziano le scuole non finanziano gli insegnanti eccetera quindi è vero che l'evasione fiscale è qualcosa che non inficia il funzionamento dello Stato non può è impossibile è lui è lo Stato che crea il denaro per creare i servizi poi sottrae il denaro dopo averlo creato non può fare il contrario non può venire a chiedere a te i soldi per fare i servizi non può ribaltare la frittata ne consegue che l'evasione fiscale non è un crimine non lo è mai stato fermi non lo è mai stato è una cosa che può essere antipatica ma non perché sottrae il funzionamento dello Stato non c'è mai stato un bambino a cui si è stato annegato un posto all'asino nido perché ci sono gli evasori fiscali in Italia allora l'evasione fiscale che cos'è? non è altro che una espansione informale della spesa dello Stato cioè il cittadino informalmente non essendo il ministro del tesoro essendo semplicemente il cittadino decide per i cauli suoi in maniera informale di espandere la spesa dello Stato perché lo Stato ha fatto questa spesa e tassa se tu qui nel momento della tassazione scapi via ti nascondi e nascondi i soldi questa freccina si riduce e se si riduce questa freccina questa è più grossa cosa hai fatto? hai semplicemente aumentato questo lo hai fatto tu per i fatti tuoi arbitrariamente l'evasione fiscale è una espansione informale della spesa dello Stato cioè è la cittadinanza che dice allo Stato ho bisogno di più soldi perché ho desiderio di risparmiare ho desiderio di comprare qualcosa ho desiderio di espandere il mio standard di vita ho desiderio di investire meglio nella mia azienda ho desiderio di riuscire a aumentare il turnovo dei miei affari per cui io decido da cittadino che tu stai spendendo troppo poco e allora io ti do meno soldi ok? questa è l'evasione fiscale non è un crimine è un segnale che la cittadinanza dà al governo che c'è bisogno di più denaro d'accordo? qual è il danno dell'evasione fiscale? non è assolutamente un danno sociale non è assolutamente un danno criminale l'evasione fiscale non deve assolutamente andare in galera il danno dell'evasione fiscale è solo uno è che impedisce allo Stato ce ne sono due o tre ma diciamo quello importante è che impedisce allo Stato di usare le tasse per controllare l'inflazione perché sapete che l'inflazione vuol dire che c'è troppa moneta qua dentro ce n'è troppa tanta troppa rispetto ai prodotti allora lo Stato intelligentemente dice ok se c'è troppa inflazione aumento per un po' le tasse dreno questo liquido no? e tutto torna a funzionare bene come prima chiaro che se uno evade lo Stato ha meno capacità di drenare denaro e l'inflazione può rimanere a un livello troppo alto o comunque alto ma questo non devasta il Paese l'abbiamo visto prima è un problema ma non devasta il Paese questo è il danno dell'evasione fiscale allora torniamo al punto se il cittadino manda un segnale di massa e dice io se non faccio del nero caro signor ministro non apro domani ok perché è vero che c'è chi evade per comprare l'iPhone è vero che c'è chi evade per andare alle Maldive o comprarsi la seconda villa ok ci può stare sul cavolo uno così non è un criminale ok ma è anche vero che c'è un pacco di gente che evade perché se no domani mattina non tira sulla seranda d'accordo allora questo è un segnale importante per il governo dire dovete spendere di più la MMT permette al governo di dire tac spendo di più d'accordo se questo è il bisogno che mi arriva dalla serenata spendo di più è la stessa cosa è uguale può essere più antipatico dell'evasione fiscale di chi come dico non riuscirebbe ad aprire il bar la mattina dopo però non porta un danno sociale è una cosa antipatica se vogliamo perché le banche ci stanno sull'anima però è la stessa cosa e di nuovo è fra l'altro attenzione perché non solo è un segnale che arriva al governo ma attenzione è denaro che rimane qua dentro e se rimane qua dentro verrà speso e se verrà speso crea occupazione crea consumi aumenta la domanda aggregata più negozi lavorano più gente lavora più persone vengono assunte quindi l'evasione fiscale paradossalmente a un certo punto può anche migliorare l'economia non danneggiarla capire le tasse la natura delle tasse è fondamentale ma si faccia attenzione se mi avete seguito fin qua si faccia attenzione a una cosa attenzione a una cosa tutto quello che ho detto sulle tasse è che è sacrosanto non solo per la modern money theory è sacrosanto in macroeconomia d'accordo e fra l'altro ci sono le testimonianze anche di grandi banchieri centrali come Bernanke Bernanke o Greenspan che lo hanno detto tante volte durante le interviste sì ok le tasse non vengono pagate sono un'espansione bisogna soltare attenta l'inflazione ma attenzione qua questo è il sistema euro se è vero che questo signore che ha il governo ed è vero deve andare da questo sistema di investitori privati per avere ogni singolo euro che spende in questo sciaguratissimo sistema è anche vero che il governo ha bisogno delle vostre tasse per funzionare perché il governo non è proprietario della moneta d'accordo quindi se qui evadiamo le tasse qui sottraiamo al governo dei fondi veri reali con l'euro l'evasione fiscale è diventata un crimine è vero che con l'euro se uno non paga le tasse può chiudere una scuola può chiudere un ospedale perché questo governo qua ridotto in queste condizioni miserabili deve pescare dovunque possa tagli alla spesa tasse titoli di stato venduti a questi signori per riuscire a avere la moneta a queste tre strade basta questo vi fa capire ancora di più alla tarda ora che siamo arrivati che razza di crimine è aver accettato l'euro non solo tutto quello che abbiamo appena detto ma anche questo fatto che adesso lo stato non può più usare la leva delle tasse voi pensate che in america in questo momento ci sono dei politici nel partito repubblicano che chiedono l'annullamento l'azzeramento delle tasse sul lavoro non sono dei deficienti che fanno i giocogliere per la strada sono dei parlamentari americani sanno quello che dicono in america si può fare hanno la moneta sovrana possono chiudere completamente quel tipo di tassazione cioè la possibilità del governo a questo punto di ridurre le tasse in un momento di recessione per risollevare le aziende italiane sarebbe con la MMT con la Modem Manizzioli è totale tagliamo il costo del lavoro italiano a zero a zero lo stato non perde gli asili nido non perde gli ospedali non perde gli infermieri non perde gli autobus non perde le scuole ripara le strade più di prima questa è la realtà dell'economia sovrana con moneta sovrana è un capitolo importantissimo ed è veramente dal mio punto di vista angosciante ma angosciante che siamo qua con gli imprenditori che urlano giustamente abbiamo il 61% di tasse e stiamo chiudendo le aziende e mandiamo la gente a casa ma porca miseria quando qui potremo non solo non chiudere le aziende ma toglierle anche le tasse certo in maniera selettiva va bene togliere le aziende in difficoltà quello che ti pare ma lo puoi fare buonasera volevo chiedere perché non hai parlato anche oltre a essere d'accordo sul fatto della creazione della moneta che come diceva John Kenneth Galbraith i tassi di crescita della moneta corrispondono sempre nella storia matematicamente i tassi di crescita del PIL nominale quindi detto dal più grande economista che probabilmente è vissuto nel secolo scorso la tua teoria secondo me diciamo che regge ma c'è l'altra un altro 50% che ci ha portato oggigiorno non solo in Italia ma nel pianeta anche il pianeta America è stato quello che Luciano Gallino che sicuramente conoscerai chiama finance capitalismo cioè la speculazione finanziaria che avrebbe già incenerito le banche le avrebbe già incenerite tu lo sai meglio di me che attraverso il mercato over the counter controlla l'economia mondiale che è quella che poi dopo decide questa oligarchia fatta dalle 7-8 grandi banche con dietro i grandi investitori internazionali consente di mettere a repentaglio intere nazioni intere continenti perché le scommesse dei credit default swap e relativi tu sai che sono 12 volte il PIL mondiale quindi la carta finanziaria che esiste in giro per il pianeta è 12 volte tutta la nostra ricchezza quindi questa la carta esisterebbe pure solo che mettono a rischio la sopravvivenza sia delle banche e quindi la nostra sopravvivenza lo sfruttamento delle nostre vite perché poi ti chiedono di lavorare anche a 500 euro 600 euro perché dicono che c'è la concorrenza c'è la crisi le banche non hanno soldi da elargire quando le banche lavorano la più grande banca d'Europa la Deutsche Bank lavora a leva 1 a 50 una volta e mezzo il PIL tedesco se succede un imprevisto la Deutsche Bank si beve il governo tedesco nel giro di sei mesi e sappiamo benissimo che le banche tedesche hanno dentro di sé delle bombe delle bombe perché sono esposte per tre volte il PIL tedesco solo che questo alla comunità europea Draghi e neanche Monti lo raccontero perché sai andare a vedere li conoscono i bilanci della Deutsche Bank come li conoscono come ad esempio e chiudo perché mi sto dilungando c'è un'inchiesta della della magistratura americana sul fatto che fino a due a un anno e mezzo fa gli otto banchieri più grandi del mondo si riunivano in New York e decidevano su cosa scommettere perché tu sai benissimo che se io muovo dieci volte il capitale contro di te io posso scommettere qualsiasi cosa della tua vita contro la tua azienda contro la banca e posso ridurre in cenere milioni di vite rapidissima risposta il signore ha parlato con dei dettagli forse un po' difficili del problema della speculazione finanziaria che crea delle bolle di denaro immense eccetera la risposta è molto chiara è sempre qui assieme a la sottrazione della sovranità monetaria degli stati è in parallelo è nata anche la sottrazione di altre sovranità come ho detto ne ho citato alcune fra cui la deregolamentazione delle banche voi sapete che le banche di fatto sono istituti pubblici perché sono dovrebbero essere strettamente regolamentate da leggi statali hanno la garanzia sui conti correnti dello Stato per cui la maggioranza della liquidità di una banca in conto corrente è garantita completamente dello Stato quindi di fatto le banche sono in mano completamente alla funzione pubblica non solo ma anche la capacità delle banche di prestare denaro è regolamentata da leggi che sono fatte dai politici ora la deregolamentazione bancale che ha dato origine al mostro che ha citato il Signore è un altro aspetto del lavoro di sottrazione di sovranità da parte dell'elite che citavo prima dello Stato oggi gli stati sono arresi alla deregolamentazione delle banche hanno lasciato le banche libere di fare quello che gli pareva e il risultato è stato un po' quello che avete sentito io adesso parlando di questa deregolamentazione delle banche vorrei anche parlare della regolamentazione privata delle banche giusto Basilea i vari comitati che nessuno chiaramente ha votato e vorrei capire come funzionano queste regolamentazioni all'interno dell'Unione Europea nel senso so che vanno a ponderare il rischio ora e quindi la banca se deve prestare 100 deve calcolare prima rischio sul soggetto e poi presta 100 e deve tenere da parte una riserva a questo punto mi verrebbe da dire le politiche monetarie perché sono state fatte politiche monetarie espansive in questi anni europee a mio parere non so se dico bene sono servite a riempire queste riserve di rischio no? delle banche internazionali che poi dico erano le ex banche nazionali italiane la banca Italia la banca d'Italia giusto? non so se sbaglio sì la domanda è se è precisamente la domanda è precisamente questa se queste regolamentazioni private insomma in questo senso servono comunque a delegittimare ancora di più la sovranità del popolo ma ripeto non sono no qui c'è un errore in fondo il Basilea le regolamentazioni non sono mai private sono se lei vuole sono organi di funzionamento pubblico sono pesantemente influenzate dal privato cioè sostanzialmente il Basilea 2 3 se non mi sbaglio è frutto del lavoro di un gruppo di banchieri di cui fa parte anche Mario Draghi in maniera del tutto impropria che è il gruppo dei 30 che negli anni 90 ha stilato tutta una serie di proposte di regolamentazione che sono state semplicemente comprate proprio bevute alla lettera da questi funzionari tecnocrati pubblici che hanno semplicemente prese lette e applicate e così hanno deregolamentato il settore bancario poi che oggi come dire questa è una foto di disastri è vero ma le banche una cosa molto semplice da capire per tutti le banche sono come delle oche se tu gli dai da bere queste bevono fino a scoppiare d'accordo e non è che poi dà la colpa alla banca lo so che la banca è antipatica a tutti ma le banche sono delle oche sono nate così la colpa non è delle banche è la colpa dei politici è del contadino che ha le oche che gli ha troppo da bere che gli ha permesso di bere troppo è la colpa sempre della regolamentazione statale governativa sempre degli organi europei di controllo i famosi regolatori europei oggi stanno facendo delle proposte per riproporre una grande autorità europea di regolamentazione delle banche ma il fatto è che abbiano permesso alle banche di avere un rapporto fra capitale e prestiti emessi del 10% a 100% cioè la banca basta che abbia in capitale il 10% se la banca presta un miliardo ok l'importante è che abbia in capitale il 10% di un miliardo poi può prestare un miliardo di denaro che non ha capite questo non è sono state le banche che si sono inventate questa roba sono i politici che hanno permesso alle banche di fare questo è in questo modo che le banche hanno creato queste bolle spaventose tu capisci nel momento in cui tu hai in cassaforte 100 lire e puoi prestare 1000 semplicemente garantendo 100 poi succede qualcosa cosa fai a garantire gli altri hai 10 lire in cassaforte e puoi prestare 100 o hai 100 lire e puoi prestare 1000 come fai a garantire gli altri 900 o gli altri 90 questo è il problema è sempre un problema di regolamentazione pubblica che noi come fra l'altro i nostri economisti fra cui anche in particolare Warren Mosler è colui che porta in giro l'idea che tutto il sistema bancario è di fatto fallito quindi andrebbe tutto rinazionalizzato e riprivatizzato a condizioni molto strette da parte dei governi ma non però attenzione cadere nella tentazione di certi demagoghi che fra l'altro non capiscono questi temi non studiano questi temi che dicono ah le banche sono tutte criminali e bisogna impedire alle banche di creare denaro no le banche quando le banche creano denaro che creano un corrispettivo indebitamento che non è mai denaro al netto però in quel momento per un'azienda per esempio per un negoziante per chiunque avere quei soldi è utile d'accordo poi è chiaro che è un indebitamento ma qual è il problema il problema è che se questo signore che si chiama governo non crea abbastanza economia per cui poi quel negoziante che ha fatto il debito con la banca incassi un bel po' di più anzi 3, 4, 5, 7, 8, 10 volte di più di quello che si è indebitato e può facilmente ripagare la banca se lo Stato non fa questa funzione non possiamo andare a colpa alle banche scusate cioè non è colpa della banca che ti ha fatto un presto e non lo puoi ripagare non lo puoi ripagare perché la gente non viene a comprare la tua roba perché la gente è in un'economia che sta fallendo è perché questo signore qui non fa il suo dovere capite? deve essere molto chiara questa storia scusi se mi ripeto ma io credo ci sia una forte responsabilità proprio da parte dei politici e degli organi di stampa che hanno permesso tutto questo io credo anche che tutto quello che lei sta dicendo e anche i finanziamenti per ottenere di fare dei convegni e tutte queste cose se ci fossero gli organi di stampa e i politici e intendo organi di stampa sia nel piccolo che nel grande politici sia nel piccolo che nel grande che non fossero così colpevoli come a me sembra che siano no lei non crede i politici ma cosa pretendiamo e anche gli organi di stampa che sono collusi ma siamo noi la politica se non la facciamo noi è inutile che pretendiamo che i politici facciano qualcosa dai siamo noi che dobbiamo muoverci e fare quello che dobbiamo fare perché non lo facciamo mai è lì il problema dalla coppia ai politici volevo fare solamente una domanda ipotizzando che il governo attui una politica monetaria espansiva questa politica può essere valida all'infinito cioè può emettere moneta senza avere un termine perché qualcosa mi ricorda non ho studiato cioè premetto che non ho studiato la materia ma qualcosa mi dice mi ricorda la trappola della liquidità all'interno del sistema non governativo allora la risposta è questa dunque questa cosa si può fare con un solo limite il governo allora il debito pubblico è un numero che sta dentro un computer del ministero del tesoro non è un debito del governo con nessuno se c'è una moneta sovrana non è un problema di debito non lo dovete ripagare voi eccetera l'emissione di moneta non crea inflazione a patto che queste emissioni di moneta c'è tutta questa moneta che entra qua dentro crei attività produttive crei lavori crei produzione eccetera perché solamente nel momento in cui entra tanta moneta qua non si produce più tanto allora dopo c'è l'inflazione ok l'inflazione poi c'è anche per altri motivi ma sostanzialmente il primo motivo è questo la domanda del signore è importante allora questa cosa questo processo virtuoso spendi sempre di più di quello che tassi lasci sempre più soldi qua dentro di quello che togli può andare avanti all'infinito no la risposta ovviamente è no e qual è il limite? il limite è la piena capacità si chiama cioè nel momento in cui il tuo Stato ha speso a sufficienza per dar lavoro a tutti gli italiani tutti cioè non c'è un disoccupato neanche a cercarlo con chi l'ha visto ok nel momento in cui le aziende hanno stanno lavorando a piena capacità quindi non possono prendere più personale perché non possono produrre più di quello che possono produrre nel momento in cui hai toccato il tetto delle materie prime che può importare nel momento in cui hai toccato la capacità del paese di vendere ai propri cittadini servizi novità cose case pieni alloggi hai il pieno alloggi hai la piena sanità hai la piena occupazione nessuno è senza casa che ne so nessuno a nessuno manca un'auto nessuno manca un'assicurazione nessuno manca un computer nessuno manca nel momento in cui si è arrivato a questo livello che è un livello di sogno della società a cui nessuna società in realtà è mai arrivata a questo livello continuare la spesa diventa inflattivo cioè può creare inflazione può creare un problema comincia a avere un ritorno di fiamma però voi capite molto chiaramente che una cosa del genere una situazione del genere non si è mai per tutto mai verificata e in Italia dove abbiamo il 32 per 34 per cento dei giovani disoccupati il 12 per cento dei adulti disoccupati dove abbiamo le aziende che chiudono a 40 mila all'anno dove abbiamo sacchi di povertà che stanno aumentando in maniera spaventosa 10 italiani su 100 che non si riscaldano sufficientemente d'inverno e bla 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 possono andare avanti all'infinito questo problema non si pone per cui prima di creare allarmi sui limiti della modern money theory e della spesa e deficit del governo devono passare molti decenni bene volevo farti una domanda io se ci puoi spiegare brevemente cos'è il fiscal compact che è stato messo in costituzione dai nostri politici allora il fiscal compact è innanzitutto un trattato europeo non è una semplice misura economica è un trattato europeo firmato da i governi dell'eurozona che dovrebbe essere applicato fra l'altro anche dagli altri governi dell'Europa fino ai 2027 quindi come trattato europeo è un trattato che va firmato dal Parlamento e ratificato per cui una volta che è ratificato diventa legge nazionale prima cosa ok e è un trattato di austerità che dice che l'Italia deve mettere in costituzione l'Italia la messa il pareggio di bilancio cioè spendo 100 tasso 100 lascio 0 cioè in costituzione viene messo l'impoverimento automatico della società che decreta che l'Italia è un paese commissariato dove come ho spiegato prima i maggiori capitoli di sovranità economica non sono più di proprietà del Parlamento del governo italiano ma sono di proprietà e di controllo esclusivo di orgoli non eletti dall'Italia commissione europea ok fondo monetario internazionale banca centrale europea è un trattato che decide che ci possono essere delle penalità applicate al paese che sgarra questi parametri per cui l'Italia può avere multe nell'ordine dei 2 miliardi di euro all'anno se sgarra i parametri imposti dal fiscal compact sono 2 miliardi di euro che spariscono in multe all'Italia solo per aver violato questa legge che nessun italiano ha votato che nessun parlamentare italiano capisce e che c'è entrato in costituzione è un trattato che decreta per esempio che la Germania dico io la Germania ma in qualsiasi paese dell'eurozona può iniziare una procedura penale contro un altro paese se ritiene che questo paese stia sgarrando i parametri stabiliti dal fiscal compact capito senza addirittura neppure il parere preventivo della commissione europea proprio si dà la libertà massima a qualsiasi paese ho detto alla Germania è un lapsus freudiano ma perché io penso che sarà sicuramente la Germania che farà tutti questi ricorsi di mettere sotto accusa uno degli altri paesi quindi è un ripeto per riassumere un impoverimento automatico dell'Italia con crisi deflattiva dell'economia italiana garantita è una perdita di sovranità spaventosa delle priorità maggiori dello Stato è un fra l'altro sancisce che il comportamento virtuoso o meno virtuoso dell'Italia debba essere giudicato secondo due parametri fondamentali il costo del lavoro che deve andare a ribasso ovviamente chiaro non il costo del lavoro a rialzo il costo del lavoro e la spesa sui servizi pubblici quindi se d'Italia dovesse essere processata per infrazione dei parametri sarà giudicata soprattutto in base a queste due parametri a stipendi troppo alti e servizi pubblici troppo stesi non si è non si è pensato di dire non so l'Italia sta spendendo troppo per i servizi per le spese militari ecco per esempio non hanno messo una cosa del genere hanno messo solo abbiamo troppi ospedali troppi asili nido troppi ambulatori allora dobbiamo essere multati questo sancisce il fiscal comp fra le altre cose ed è una mostruosità democratica di sovranità economica è un crimine contro la cittadinanza l'abbiamo votato ratificato e messo costruzione volevo riprendere un attimo vabbè sottolineare un aspetto delle tasse nel senso una tassazione progressiva e magari eventualmente una tassazione sui grandi patrimoni serve eventualmente anche ad evitare sperequazioni troppo elevate tra i patrimoni dei cittadini leggevo mi pare che il 10% degli italiani emano il 50% della ricchezza nazionale negli Stati Uniti ovviamente anche peggio e questo magari serve ad evitare che appunto la parte più ricca della popolazione si compri o ai mesi di comunicazione o faccia lobbying o si compri direttamente il politico e quindi diciamo serve a mantenere aperto il gioco democratico quindi in questo senso la tassazione può anche avere una funzione in più pensavo poi anche a quello che possono essere eventualmente i limiti ecologici adesso l'Italia è abbastanza ferma però appunto un'altra cosa che leggevo è che se ogni abitante della terra consumasse quanto un cittadino americano ci serve bisogno di quattro pianeti terra per un italiano almeno fino a qualche anno fa ne sarebbero bastati due adesso forse siamo un po' calati non so però quindi questa cosa di pompare denaro per far crescere posso capirla però c'è un limite anche fisico oltre che semplicemente ultima cosa dipende anche poi da appunto come si spende il denaro non so se lo Zimbabwe si mettesse a fare l'MMT se automaticamente diverrebbe immagino come ha detto lei diceva ogni lire in più ogni euro in più che ho avuto dentro deve generarmi un uovo in più un prosciutto in più insomma qualcosa di se no ovviamente vado in vado in si sente? è vale sca no scusi si sente? se lo Zimbabwe se lo Zimbabwe applicasse automaticamente l'MMT diventerebbe comincerebbe automaticamente a crescere cioè dipende immagino da come sono spesi i soldi allora tre problemi la tassazione progressiva bisogna di nuovo tornare all'idea che uno dei miti falsi dell'economia è che tassando i ricchi si riesce a finanziare la spesa per i meno ricchi questo non è assolutamente vero perché tassando i ricchi innanzitutto si accumulano capitali che sono estremamente inadeguati sono prima come discorso di stipendio delle parlamentarie sono delle frazioni del denaro che uno Stato deve spendere per la propria cittadinanza non accadrà mai che tassando i miliardari italiani avremo abbastanza soldi per far funzionare ospedali, scuole e strade prima cosa secondo tassando i ricchi sottrai domanda aggregata cioè sottrai del denaro che i ricchi puoi spendere perché i ricchi saranno antipatici però comprono della roba spendono viaggiano fanno vacanze comprano case assumono persone e tassando i ricchi rischi poi di ridurre anche una quota di domanda aggregata di ricchezza del paese tassare i ricchi ha una sola funzione in realtà che è una funzione legittima che è una delle poche funzioni legittime delle tasse che è quella di controllare l'accumulo di patrimoni a sufficienza perché si disgreghi lo Stato se non si tassassero adeguatamente i grandi patrimoni un grande patrimonio potrebbe decidere di inventare uno Stato e una moneta propria potrebbe decidere di creare un proprio feudo e potrebbe spaccare lo Stato in due in tre in quattro in cinque cioè si ritornerebbe alle situazioni pre-democratiche per quello la cosa delle risorse è giusta la MMT non è una teoria economica che dice che dobbiamo avere lo Stato che spende così compriamo 70 telefonini a testa così mettiamo la benzina nella macchina e facciamo dei buchi col punteruolo nel serbatorio tanto chi se ne frega perché lo Stato ci dà abbastanza soldi per fare il pieno quattro volte al giorno non è una buffonata di questo genere la MMT è una teoria che dice che innanzitutto questo Stato può fare questa opera di creazione di economia interna ok secondo quel tetto di risorse di cui ho parlato prima il problema delle risorse globali è un problema importante che la MMT non ha mai scartato d'accordo ma attenzione che una componente enorme dell'economia creata dalla MMT non è né telefonini né plastica né gomma né niente sono servizi uno dei settori di studio più importanti che noi proponiamo per risanare il paese e creare posti di lavoro noi diciamo è inutile stare in sista con la Fiat con la metalmeccanica è un settore perduto Marchione sarà una testa di quello che è è anche un uomo odioso per carità di Dio e il loro progetto è odioso per carità di Dio ma la metalmeccanica è condannata è condannata dalla tecnologia in Corea i nuovi stabilimenti non hanno le lampadine non ci sono perché non ci sono uomini che ci lavorano dentro d'accordo quindi questo è il futuro della macchina è inutile che stiamo a insistere a tenere gli operai allora la MMT ti dice tu dici al signor Marchione ti prendi la tua Fiat e te ne vai alle Caymano te ne vai dove cavolo ti pare chi se ne frega hai fatto delle macchine che fanno schifo per 50 anni basta te ne vai dall'Italia questa gente che perde il lavoro la si prende la si rimpiega con stipendi esattamente identici cinesatori dei servizi noi abbiamo delle società che oggi hanno una sotto fornitura di servizi addirittura a volte si calcola del 90-92% cioè noi abbiamo l'8% dei servizi che ci servono avremo migliaia centinaia di posti di lavoro creati nei servizi che producono economia producono ricchezza producono efficienza producono benessere in tutti i settori oltretutto con la popolazione anziana che abbiamo che sta aumentando di smisura per fortuna io ho una madre di 88 anni con un paio di handicap importanti io avrei bisogno di 5 persone fisse 5 solo per mia madre solo per lei per farle fare una vita decente non le abbiamo ovviamente non ce le possiamo permettere con la MMT tu hai 5 persone che lavorano in questo settore per un singolo anziano pensate a una qualsiasi cosa un'azienda che ha un personale femminile con dei figli piccoli queste donne impazziscono per qualcuno che porta i bambini a scuola il marito deve impazzire la zia la mamma la nonna non si capisce come chi la prende tu hai per ogni famiglia 5 persone che lavorano per quella famiglia lì ok uno porta i bambini a scuola quell'altro li fa da mangiare l'altro li fa la ginnastica quell'altro li porta in piscina quell'altro li fa l'educazione non so i giochi creativi quell'altro gli fa le festicciole 5 persone che lavorano in una famiglia ognuno pagato con uno stipendio quella persona è tranquilla si sveglia la mattina bacia i bambini è a posto non deve pensare a niente va a lavorare lavora meglio produce meglio per l'azienda sta meglio è più rilassata litiga di meno meno stress ci sono esempi a migliaia di questo assistenti personali negli ospedali non sappiamo mai a chi chiedere i medici dobbiamo fermare per il corridoio e tirare per il camere non esiste personale addetto alla comunicazione negli ospedali impieghi per ogni ospedale 100 persone addette alla comunicazione vanno entro escono cartelle cliniche cosa sta succedendo cosa è successo in che camera è quali sono le notizie mediche cosa devo fare a chi mi devo rivolgere per i servizi eccetera all'infinito quindi la MMT non sta dicendo creiamo economia all'infinito per sprecare plastica petrolio e arrivare a distruggere le risorse del pianeta al contrario stiamo proprio dicendo questo laddove la tecnologia arriverà a usare molto meno materiale umano e anche molto meno materiale tecnologico a sprecare molto meno materiale creiamo posti di lavoro in un'altra maniera bene voglio chiederti siamo usciti alla lira e dobbiamo comprare il petrolio come facciamo? dobbiamo comprare il petrolio siamo usciti alla lira e dobbiamo comprare il petrolio e siamo tornati alla lira siamo tornati alla lira dobbiamo comprare il petrolio come facciamo a comprare il petrolio che anche questo è un altro fantasma usato l'altro spauracchio usato per paralizzare la gente impedire alla gente di immaginare la soluzione a questo disastro economico innanzitutto la spesa per l'energia in Italia la spesa per il petrolio in Italia è una cosa ridicola rispetto a quello che tutti si immaginano noi che paghiamo la benzina così cara siamo distinti portati a immaginare che il governo italiano per l'energia in Italia spenderà quanto? 40% il 50% della spesa dello Stato in realtà quando l'Italia spende molto per l'energia spende l'1,7 2% della propria spesa pubblica quindi è il 2% del fatturato della spesa dello Stato 1,7 1,2% quindi è un problema molto relativo nel momento in cui si tornasse alla lira la seconda cosa che non si sa è che non è vero che il petrolio si compra in dollari questa è una balla una bugia è proprio una cosa ridicola non è mai stato così mai al mondo il petrolio è prezzato in dollari cioè ha un valore che è prezzato in dollari ma si compra con qualsiasi moneta al mondo terza risposta un paese come l'Italia che ritorna a portare questo paese allo splendore dell'economia che aveva e che era e agli investimenti esterni che arrivano qua che arriva a riportare l'Italia anche se non in via privilegiata perché non è un settore da privilegiare ma che arriva a riportare l'Italia a quei valori di esportazione che avevamo a quei privati di esportazione che avevamo è un paese che attira capitali straniere attira moneta forte che può essere usata per comprare l'energia attira dollari attira yen eccetera e questo è facilmente comprensibile quello che abbiamo sempre fatto nella storia nazionale l'Italia non è mai andata in crisi per i suoi fabbisogni energetici queste sono cose che vengono usate come spauracchi per impedire le persone di capire l'economia e guidare l'economia a proprio favore portiamo scusa anche ma poi comunque pensate solamente al fotovoltaico cioè abbiamo una sottouso in un paese come l'Italia è qualcosa di incredibile potremmo col fotovoltaico veramente io ho un parente che ha lavorato tutta la vita come direttore generale al Max Planck Institute di Monaco del progetto di fusione nucleare che è in pensione adesso e oggi lavora cosa incredibile per un uomo di quella formazione lavora per studi che dimostrino come il fotovoltaico potrebbe in realtà fornire all'Italia quasi tutta l'energia di cui ha bisogno non tutta ma quasi tutta anche questo è un investimento che può venire dallo Stato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti